lettera monitoria e occasione di acquistare qualche qualità concorrenza di due giubilei intanto il tempo passava e Ulrich ricevette una lettera di suo padre mio caro figliolo sono trascorsi ormai quattro mesi senza che dai tuoi laconici scritti si possa dedurre che tu abbia compiuto il minimo passo avanti nella carriera o sia in procinto di compierlo sono ben lieto di riconoscere che nel corso di questi anni mi è stata concessa la soddisfazione di udirlo dare da varie fonti autorevoli l'opera tua e pronosticare a te conseguentemente un promettente avvenire ma la tua innata tendenza non trasmessa certamente da me a fare di gran carriera i primi passi quando un compito ti attira ma a dimenticare ben presto ciò che devi a te stesso e a coloro che hanno posto in te le loro speranze e d'altra parte il fatto di non poter ricavare dalle tue notizie la minima indicazione di un piano per la tua vita futura mi riempiono di grave affanno non soltanto hai raggiunto un'età in cui gli altri uomini si sono già fatta una posizione ben salda ma inoltre io posso morire da un giorno all'altro e il patrimonio che lascerò in parte uguali a te tua sorella non sarà da disprezzarsi nelle attuali circostanze però non basterà ad assicurarti da solo quel posto in società che tu devi naturalmente raggiungere coi tuoi mezzi mi preoccupa gravemente il pensiero che da quando ti sei laureato fai solo vaghi accenni a progetti che si estendono ai più vari campi e di cui tu probabilmente secondo la tua abitudine esageri assai la portata non ti riferisci mai alle soddisfazioni che ti darebbe una cattedra di insegnamento né mi risulta che tu abbia preso contatti a tal scopo con qualche università o con circoli competenti non posso certo essere sospettato di voler disprezzare l'indipendenza scientifica io che 47 anni fa nella mia opera a te ben nota la dottrina sulla responsabilità morale secondo samuel pufendorf e la giurisprudenza moderna giunta ora alla dodicesima edizione ho per primo messo in luce i veri rapporti e spezzati pregiudizi nutriti in materia dalla vecchia scuola di diritto penale ma per l'esperienza raccolta in una vita operosa non posso neppure ammettere che ci si richiuda in se stessi e si trascurino le relazioni sociali e scientifiche le quali forniscono un appoggio al lavoro del singolo e lo immettono in un sistema profittevole e fruttuoso conto quindi fermamente di ricevere presto tue nuove e a ricompensa dei sacrifici che ho fatto per il tuo bene di vederti annodare le relazioni suddette ora che sei tornato in patria e non più trascurarle ho scritto anche in tal senso al mio vero amico e protettore l'ex presidente della corte dei conti e attuale preposto all'amministrazione privata della famiglia imperial regia sua eccellenza il conte stalburg pregandolo di voler benignamente accogliere la preghiera che tu gli rivolgerai prossimamente il mio illustri amico ha già avuto la bontà di rispondermi a volta di corriere e avrai la fortuna ad essere ricevuto da sua eccellenza come pure di aver suscitato in lui un vivo interessamento per il tuo curriculum che io gli ho esposto con questo ritengo di aver assicurato il tuo avvenire per quanto è il mio potere posto che tu sappia coltivarti la simpatia di sua eccellenza in pari tempo rinsaldare la buona opinione che hanno di te gli autorevoli ambienti accademici quanto alla richiesta che certamente sarai lieto di presentare a sua eccellenza appena saprai di che cosa si tratti ecco nell'oggetto nell'anno 1918 e precisamente nei giorni intorno al 15 giugno si svolgeranno in germania feste solenni per il trentesimo anno di regno dell'imperatore guglielmo secondo feste che dovranno attestare al mondo intero la grandezza e la potenza germaniche quantunque manchino ancora parecchi anni a tal data si sa da fonti degne di fede che si stanno già facendo preparativi per ora naturalmente non ufficiali ora tu ben sai che nello stesso anno il nostro augusto imperatore celebrerà il settantesimo giubileo della sua ascesa al trono e che l'anniversario cade il 2 dicembre la troppa modestia che distingue sempre noi austriaci nelle questioni riguardanti la nostra patria mi ispira il timore che si prepari per noi diciamolo pure una nuova königgratz vale a dire che i tedeschi con il loro metodo mirante all'effetto si prevengano così come allora adottarono il fucile ad ago prima che noi pensassimo ad una sorpresa da parte loro fortunatamente i timori orora espressi sono già stati concepiti da altre personalità altolocate e posso rivelarti che a vienna si sta svolgendo un'azione per impedire che tali timori si mutino in realtà e permettere in pieno valore la maggior portata di un giubileo settantennale ricco di gioie e di dolori di fronte ad un altro che conta appena 30 anni poiché il 2 dicembre non si può naturalmente far cadere prima del 15 giugno si è avuta la felice idea di estendere i festeggiamenti a tutta l'annata 1918 facendone l'anno giubilare del nostro imperatore della pace ne sono informato solo in quanto le corporazioni alle quali appartengo sono state sollecitate a pronunciarsi sulla proposta il resto la prenderai dal conte stalburg che è disposto ad assegnarti nel comitato organizzativo un posto che onora la tua giovinezza ti devo altresì esortare a non rimandare oltre se non vuoi mettermi in un penoso imbarazzo l'entrata in rapporti che da tanto tempo ti raccomando con la famiglia del capodivisione tuzzi del ministero degli esteri bensì direcarti subito a presentare i tuoi omaggi alla di lui consorte che come sai è figlia di un cugino della moglie del mio compianto fratello e per conseguenza cugina tua mi si dice che ella abbia una parte assai cospicua nel progetto di cui ti ho informato e il mio venerato amico il conte stalburg ha già avuto l'estrema bontà di annunziarle la tua visita quindi non devi assolutamente più tardare a compiere questo dovere di me non ho altro da comunicarti il lavoro alla nuova edizione del mio libro già citato occupa insieme con le lezioni tutto il mio tempo e quel resto di forze di cui si dispone alla mia tarda età è necessario impiegare bene il tempo perché esso sfugge di tua sorella so che sta bene e null'altro ha un marito eccellente ma non ammetterà mai di essere soddisfatta della sua sorte e di sentirsi felice ti benedice il tuo affezionato padre 19 contatto con la realtà pur mancando di qualità ulrich agisce con combattività ed energia il fatto che ulrich si fosse deciso a visitare il conte stalburg aveva fra gli altri motivi quello non ultimo che la sua curiosità sarà destata il conte stalburg era funzionario della corte imperiale e reale e l'imperatore re di cacania era un vecchio signore leggendario molti libri furono scritti in seguito su di lui e adesso si sa minutamente ciò che gli ha fatto impedito tralasciato di fare ma allora nell'ultimo decennio della sua vita e dell'esistenza del regno di cacania molti giovani familiari col mondo delle arti e delle scienze si chiedevano talvolta se gli esistesse davvero il numero dei suoi ritratti esposti dovunque era quasi uguale a quello dei suoi sudditi nel suo giorno natale si mangiava e si beveva quanto in quello del redentore i falò ardevano sulle montagne e le voci di milioni di uomini proclamavano di amarlo come un padre infine una canzone celebrante le sue lodi era l'unica creazione musicale e poetica di cui ogni cacanese conoscesse almeno una riga tanta popolarità pubblicità erano così arci convincenti che credere alla sua esistenza avrebbe potuto essere come credere all'esistenza di certe stelle che si vedono benché non ci siano più da migliaia di anni per prima cosa quando ulvi si recò a palazzo reale la carrozza che lo portava si fermò nel cortile esterno e cocchiere chiese di essere pagato affermando che poteva attraversare il cortile interno ma non sostarvi ulvi andò in collera convinto che cocchiere fosse un imbroglione o un pusillanime e volle insistere ma non poté spezzare la sua timorosa resistenza e improvvisamente sentì in essa l'irradiazione di un potere che era più forte di lui entrando nel cortile interno gli diede nell'occhio l'infinità di giubbe calzoni e pennacchi rossi azzurri e bianchi e gialli impalate al sole come uccelli su un banco di sabbia fino allora sua maestà gli era apparsa una locuzione senza significato rimasta nell'uso così come si può essere un ateo e dire per l'amor di dio ma ora levò lo sguardo sulle altissime mura e capì di trovarsi entro un'isola grigia chiusa e fortificata lungo la quale fluiva ignaro il veloce traffico cittadino presentata la sua richiesta venne condotto per scale e corridoi attraverso camere e sale benché fosse vestito con perfetta eleganza si sentì valutare esattamente da ogni sguardo che incontrava lì dentro nessuno pareva capace di scambiare la nobiltà intellettuale con quella di sangue e ad Ulrich non rimase altra soddisfazione che la protesta ironica e la critica borghese e gli capì di trovarsi in un grosso guscio con uno scarso contenuto le sale erano quasi prive di mobili ma quel vuoto non aveva il mordente di un grande stile passò lungo una serie di guardie e di valletti in ordine sparso che costituivano un presidio più goffo che pomposo sarebbe stato meglio sostituire con una mezza dozzina di detective ben pagati addestrati infine il personale di servizio grigio vestito e imberrettato come i fattorini di banca faceva pensare a un avvocato a un medico che non separava ufficialmente i locali d'ufficio dall'abitazione privata mi sente benissimo e li pensò come tutto questo agli occhi di borghesi dell'epoca biedemeyer abbia potuto sembrare sfarzo splendore e incutere soggezione ma oggi non regge più il confronto con la bellezza e la comodità di un albergo e perciò si spaccia astutamente per signorire riservo e contegnosità ma quando entrò dal conte stalburg sua eccellenza lo ricevette in un gran prisma cavo di bellissime proporzioni nel cui centro l'uomo calvo insignificante un po curvo e con le gambe scimmiescamente piegate gli stava dinanzi in un atteggiamento che in un alto funzionario di corte non poteva assolutamente essere spontaneo ma pareva piuttosto copiato da un modello le spalle erano cascanti e le labbra pendule sembrava un vecchio inserviente d'ufficio un bravo contabile e a un tratto non c'era più dubbio sulla rassomiglianza il conte stalburg diventò trasparente e uluri capì che un uomo quale da 70 anni è l'altissimo centro del supremo potere deve trovare una certa soddisfazione a ritirarsi dietro se stesso e ad apparire come il più subalterno dei suoi sudditi motivo per cui diventa semplicemente questione di buona creanza e naturale forma di discrezione il non assumere in prossimità di questo altissimo personaggio un aspetto più personale di lui questa è la spiegazione del fatto che ogni sovrano ha sempre amato definirsi il primo servitore dello stato e con una rapida occhiata ulrich si accertò che anche sua eccellenza portava gli scopettoni corti grigi rasati sul mento di cui si freggiavano tutti gli uscieri e impiegati ferroviari in cacania si era accorto come si sforzassero di somigliare al loro re e imperatore ma l'esigenza più profonda è in simili casi reciproca ulrich ebbe tempo di fare le sue considerazioni perché dovette aspettare un poco prima che sua eccellenza gli rivolgesse la parola natavico istinto spettacolare del travestimento e della trasformazione che è uno dei piaceri della vita gli soffriva senza sapori estranei senza ombra di teatralità così forte che la consuetudine borghese di edificare teatri e di fare dello spettacolo un'arte che si affitta a ore gli apparve di fronte a quell'arte inconsapevole e costante di rappresentare se stessi qualcosa di assolutamente innaturale tardivo e dualistico e quando sua eccellenza disgiunse finalmente le labbra e gli disse il suo ottimo padre e si fermò subito ma già aveva nella voce qualcosa che faceva notare le bellissime mani già all'ognole e una specie di moralità emanante da tutta la persona ulrich lo trovò delizioso e commise un errore che gli intellettuali commettono sovente perché sua eccellenza gli chiese di che cosa si occupava e dopo che ulrich gli ebbe risposto che si occupava di matematica replicò ah molto interessante e in che scuola insegna e avendogli ulrich dichiarato che non aveva niente da fare con la scuola sua eccellenza disse ah molto interessante capisco scienza università e ciò parve a ulrich così familiare e conforme a un modello di conversazione raffinata che di punto in bianco cominciò a comportarsi come se fosse a casa sua e seguì i suoi pensieri invece delle regole mondane imposte dalla situazione improvvisamente si ricordò di moos brugger qui il diritto di grazia era per così dire a portata di mano e nulla gli parve più ovvio che il tentativo di farne uso eccellenza disse posso approfittare di questa occasione propizia per intercedere in favore di un uomo ingiustamente condannato a morte a quella domanda sua eccellenza il conte stalburg fece tanto d'occhi è un delinquente sessuale già confessò ulrich e in quel momento servì degli stessi di comportarsi in modo inqualificabile naturalmente era un irresponsabile soffrettò a rimediare e stava per aggiungere vostra eccellenza non ignora che la nostra legislazione risalente alla metà del secolo scorso su questo punto è molto arretrata ma inghiotti rimase in secca infliggere delucidazioni a quell'uomo come fanno spesso senza nessuna utilità le persone che si dilettano di ragionamenti intellettuali era una manovra sbagliata due parole di quel genere lasciate cadere con giudizio possono essere fertili come una buona terra da giardino ma in quel luogo erano come un mucchietto di fango portato dentro inavvertitamente sotto le suole delle scarpe ma quando il conte stalburg si accorse del suo imbarazzo gli dimostrò veramente una grande benevolenza sì sì ricordo replicò un po' riluttante dopo che ulrich gli ebbe detto il nome e dunque lei dice che è irresponsabile e vorrebbe aiutarlo lui non è colpa da sono sempre casi particolarmente spiacevoli il conte stalburg pareva soffrire molto di quella difficoltà guardò ulrich sconsolatamente gli chiese come se non potesse essere altrimenti se la condanna era ormai irrevocabile ulrich rispose di no ah vede riprese il conte sollevato allora c'è ancora tempo e si mise a parlare di papà lasciando amabilmente in sospeso il caso moos brugger la mossa errata aveva tolto per un attimo ulrich ogni speranza di spirito ma cosa strana lo spaglio non aveva fatto cattiva impressione a sua eccellenza sulle prime il conte stalburg era rimasto senza parole come se qualcuno si fosse tolto la giacca in sua presenza ma poi quella spontaneità da parte di un uomo così ben raccomandato gli parve indizio di combattività ed energia e fu lieto di aver trovato quelle due parole perché era animato dal desiderio di farsi una buona opinione le scrisse subito possiamo sperare di aver trovato un elemento energico e combattivo nella lettera di presentazione rivolta al personaggio principale della grande azione patriottica pochi minuti dopo prendendo in consegna lo scritto ulrich si paragonò mentalmente a un bambino che si congeda mettendogli nella manina un pezzetto di cioccolata ora stringeva in mano qualcosa e ascoltava istruzioni per un'altra visita che potevano essere un ordine come una preghiera senza che gli fosse possibile sollevare obiezioni ma c'è un equivoco io non avevo nessuna intenzione e gli avrebbe voluto dire ma era in cammino li percorreva all'indietro il corridoi e le sale improvvisamente si fermò su due piedi e pensò sono stato sollevato come un sughero e posato in un posto dove non avevo nessuna voglia di andare esaminò incuriosito l'insidiosa semplicità dell'arredamento pote dirsi tranquillamente che anche adesso non gli faceva nessuna impressione era soltanto come un mondo dimenticato lì durante un trasloco eppure quale strana caratteristica forza ne emanava tuttavia perbacco non si poteva esprimere in modo diverso era semplicemente straordinariamente reale 20 la vera trovata dell'azione parallela fatta dal conte leinsdorf la vera forza matrice della grande azione patriottica che d'ora in poi chiameremo anche azione parallela per brevità e perché doveva mettere in valore la maggior portata di un giubileo settantennale ricco di gioie e dolori nei confronti di un altro che conta appena 30 anni non era il conte stalburg bensì il suo amico leinsdorf conte non mediatizzato nel suo studio accogliente illuminato da alte finestre di questo nobile signore fra molti e diversi strati di raccoglimento devozione alla mari d'oro e maestosa celebrità lo stesso giorno che ulrich fece la sua visita a palazzo reale il segretario con un libro in mano leggeva a sua signoria un passo che questi lo aveva incaricato di scovare era nei discorsi alla nazione tedesca di ohan gottlibe fichte e gli sembrava molto adatto per liberarsi dal peccato originale dell'ignavia e gli lesse e dalle sue conseguenze la falsità e la concordia gli uomini hanno bisogno di modelli che costruiscano loro ed innanzi l'enigma della libertà come furono loro proposti nei fondatori di religioni il necessario accordo sulla convinzione morale avviene nella chiesa i cui simboli sono da considerarsi non materia di insegnamento ma mezzi didattici per l'annunzio delle verità eterne aveva sottolineato le parole ignavia modelli e chiesa sua signoria aveva ascoltato benignamente si era fatto mostrare il libro ma poi scosse il capo no disse il conte non mediatizzato il libro andrebbe bene ma quel punto di vista protestante sulla chiesa non va il segretario aveva l'aria sconfortata di un piccolo impiegato quando il capufficio gliele spinge per la quinta volta la minuta di una scrittura e obiettò cautamente ma fichte non farebbe ottima impressione sugli ambienti nazionalisti ritengo replicò sua signoria che per ora vi dobbiamo rinunziare chiuso il libro si richiuse anche in viso e davanti alla faccia autoritaria e impenetrabile anche il segretario si ripiegò in sé con un profondo inchino e prese in consegna fichte per toglierlo di mezzo e rimetterlo in biblioteca fra tutti gli altri sistemi filosofici la cucina non la si fa da sé ma se ne incalica il servidorame dunque disse il conte Leinsdorf per ora restiamo a quei quattro punti imperatore della pace pietra migliare dell'Europa autenticità dell'Austria capitale e cultura in questi termini deve redigere la circolare sua signoria aveva avuto in quel momento un pensiero politico che tradotto in parole significava all'incirca verranno da soli intendeva dire a quegli ambienti del suo paese che sentivano ad appartenere più che a questo alla nazione tedesca a lui personalmente non piacevano se il suo segretario avesse trovato una citazione atta a lusingargli per questo scopo si era ricorso a Johan Gottlieb Fichte ma si sarebbe inserita nella circolare ma dal momento che un particolare inopportuno lo sconsigliava il conte Leinsdorf era ben contento di rinunziarvi egli era il promotore della grande azione patriottica a lui era venuta in mente per primo la qualifica imperatore della pace quando aveva ricevuto dalla Germania la conturbante notizia vi aveva subito collegato l'immagine di un monarca ottantenne un vero padre dei suoi popoli e di un regno che durava in interrotto da settant'anni queste due immagini avevano naturalmente i lineamenti a lui ben noti del suo imperiale signore ma l'aureola di cui li vedeva circonfusi non era quella della maestà nessi quella del superbo fatto che la sua patria vantasse il sovrano più vecchio e il regno più lungo del mondo la gente senza comprensione può sentirsi indotta a vedervi soltanto il gusto della rarità così come il conte Leinsdorf avrebbe potuto anteporre al possesso di un quadro del greco quello dei molti più rari francobolli del Sara a righe orizzontali con la filigrana e un lato non dentellato ciò che faceva infatti benché possedesse l'uno e l'altro e non disdegnasse del tutto la famosa quadreria a vita ma essi appunto non sanno capire la forza di un'immagine che arricchisce più della più grande ricchezza quell'immagine del vecchio sovrano per il conte Leinsdorf comprendeva anche la patria amata e il mondo a cui essa doveva essere d'esempio grandi e dolorose speranze muovevano l'animo del vecchio patrizio non avrebbe saputo dire se gli coceva di più il dolore di non vedere la sua patria occupare nella famiglia dei popoli il posto d'onore che le aspettava o la gelosia verso la Prussia che nel 1866 aveva sloggiato l'Austria da quel posto o se prevalesse invece a ogni altro sentimento l'orgoglio per la nobiltà di un così antico stato e il desiderio di dimostrarlo esemplare perché a parer suo i popoli europei andavano tutti alla deriva presi nel vortice di una democrazia materialistica ed egli vagheggiava l'idea di un simbolo sublime che fosse per loro un monito e un invito a ritornare indietro per lui era chiaro che doveva accadere qualcosa onde l'Austria fosse posta dinnanzi a tutte le altre nazioni affinché la sua splendida manifestazione di vita fosse una pietra a miliare per il mondo intero e gli giovasse a ritrovare finalmente se stesso e che tutto questo si connetteva col possesso di un ottantenne imperatore della pace in verità il conte Leinsdorf non sapeva nulla di più e nulla di preciso ma era in dubbio che volgeva in mente un grande pensiero e questo pensiero non soltanto infiammava la sua passione contro il qual fatto un cristiano severamente educato e fornito del senso di responsabilità avrebbe pur dovuto osservarsi diffidente ma con chiara evidenza si effondeva in sublime e radiose fantasie come quelle sul sovrano sulla patria e sulla felicità mondiale l'oscurità ancora inerente a quel pensiero non inquietava sua signoria sua signoria conosceva molto bene la dottrina teologica della contemplazio in caligine divina che è infinitamente chiara in sé ma per l'intelletto umano è tenebra abbacinamento e del resto era sua ferma convinzione che un uomo che fa qualcosa di grande non sa quasi mai il perché lo dice anche Cromwell un uomo non va mai più lontano che quando non sa dove sta andando così che il conte Leinsdorf si abbandonava sereno al godimento delle sue visioni la cui incertezza secondo il suo sentire lo eccitava assai di più di una certezza fatta astrazione dalle fantasie le sue opinioni politiche avevano però una straordinaria saldezza e quella indipendenza di un grande carattere che è resa possibile soltanto dall'assoluta mancanza di dubbi come signore ed un maggiorasco era senatore di diritto ma non svolgeva attività politiche né rivestiva caliche di corte o a servizio dello Stato era nient'altro che patriota ma appunto per questo e per la sua ricchezza indipendente era diventato il centro di tutti gli altri patrioti che seguivano con preoccupazione gli sviluppi del regno e dell'umanità il dovere morale di non rimanere spettatore indifferente ma di offrire a quegli sviluppi una mano soccorrevole dall'alto penetrava tutta la sua vita del popolo pensava fermamente che fosse buono poiché non solo i suoi molti impiegati salariati e servitori dipendevano da lui ma economicamente anche un gran numero di altre persone egli il popolo non lo aveva mai conosciuto altrimenti che attraverso quei rapporti tranne le domeniche e gli altri giorni festivi quando in un brulichio simpatico e variopinto si riversava fuori dalle quinte come il coro di un melodramma ciò che non combinava con questo quadro era quindi ascritto a colpa di certi elementi sovversivi era per lui l'opera di alcuni individui irresponsabili immaturi e smaniosi di mettersi in mostra frutto di un'educazione feudale e religiosa mai esposto ad essere contraddetto nei suoi rapporti col mondo borghese non illetterato ma per influsso dei preti pedagoghi che avevano vigilato sulla sua infanzia reso incapace per sempre di scoprire in un libro altro che concordanza con i suoi propri principi oppure eretica divergenza egli conosceva il mondo e gli uomini del suo tempo solo attraverso le lotte del parlamento e dei giornali e avendo intelligenza abbastante per ravvisare in quelle lotte molte superficialità veniva confermato ogni giorno nel suo preconcetto che il vero mondo borghese inteso a fondo era proprio come lo vedeva lui già la qualifica il vero applicata alle correnti politiche era uno dei suoi espedienti per orientarsi in un mondo che era creato da Dio ma lo smentiva troppo sovente egli era fermamente convinto che persino il vero socialismo concordava con le sue opinioni anzi era sempre stata una sua ambizione personalissima che in parte dissimulava ancora persino a se stesso gettare un ponte attraverso i quali i socialisti potessero venire dentro il suo campo era chiaro come il sole che soccorrere ai poveri è un dovere cavalleresco e che per la vera alta nobiltà non c'è poi una così gran differenza tra un fabbricante e un suo operaio in fondo in fondo siamo tutti socialisti era la sua sentenza favorita e voleva dire all'incirca niente di più che nell'altro mondo non vi sono differenze sociali in questo mondo però egli le riteneva necessarie e si aspettava che il proletariato a condizione di andargli incontro nelle questioni del benessere materiale rinunciasse alle frasi fatte che gli hanno messo in capo e riconoscesse il naturale ordinamento del mondo dove ciascuno trova prosperità e doveri nell'ambito a lui destinato il vero patrizio gli sembrava perciò tanto importante quanto il vero manovale e la soluzione dei problemi politici ed economici metteva a capo per lui a un'armonica visione che gli chiamava patria sua signoria non avrebbe saputo dire quanto di tutto questo aveva pensato nel quarto d'ora che seguì all'uscita del suo segretario forse tutto l'uomo sessantenne di media corporatura sedeva immobile alla sua scrivania con le mani intrecciate in grembo e non si accorgeva di sorridere portava un colletto basso perché aveva tendenza al gozzo e una barba a ventaglio per la medesima ragione oppure perché lo faceva somigliare ai ritratti di nobili boemi del tempo di Wallenstein una stanza alta e spaziosa gli sorgeva intorno circondata dai grandi locali vuoti del vestibolo e dalla biblioteca contenuti a loro volta come guscio entro guscio da altre camere silenzio devozione solennità e la ghirlanda di due scale sontuose nell'androne dove le due scale confluivano torreggiava il guardaportone in una gran palandrana calica di gallone con la mazza in pugno e dall'arco della porta guardava il liquido chiarore del giorno e i passanti che vi nuotavano dentro come in un acquario di pesci rossi al limite dei due mondi si innalzavano le volute giocose di una facciata rococò famosa tra gli storici dell'arte non soltanto per la sua bellezza ma anche perché era più alta che larga e si è considerato oggi di come il primo tentativo di tendere la pelle di un largo e comodo castello di campagna sull'armatura borghesemente ridotta di una casa contadina e quindi uno dei più importanti esempi di transizione dallo splendore feudale allo stile democratico borghese grazie ad essa l'esistenza dei lionstorff con le credenziali dei libri di storia dell'architettura passava a far parte del regno universale dello spirito chi non lo sapeva però non lo vedeva come la goccia d'acqua che scorre non vede le pareti del suo canale notava soltanto il morbido vano grigiastro del portone nella compattezza della strada una sorprendente quasi eccitante cavità dentro la quale scintillavano i cordoni dorati e il pomo splendente della mazza quando il tempo era bello il guardaportone veniva sul limitare e stava lì come una gemma colorata che si vede di lontano incastonata in un allineamento di case di cui nessuno ha la percezione sebbene siano proprio i loro muri a innalzare ad ordine e dignità di strada il brulicame senza numero e senza nome c'è da scommettere che una gran parte del popolo sul cui ordine il conte Leinstorf vegliava sollecito e instancabile udendo citare il suo nome non vi avrebbe collegato altra immagine che quella del suo guardaportone ma sua signoria non se ne sarebbe adontata anzi il possesso di un simile guardaportone doveva sembrargli il vero disinteresse confacente a un membro della nobiltà 21 l'azione parallela sotto forma di una dama influente di indescrivibile fascino spirituale sta per divorare Ulrich secondo il desiderio del conte Stalburg Ulrich avrebbe dovuto visitare questo conte Leinstorf ma aveva deciso di non farlo si proponeva invece di presentarsi alla grande cugina secondo la raccomandazione paterna perché era curioso di vederla una volta con i suoi occhi non la conosceva ma già da un po' di tempo sentiva contro di lei una speciale avversione perché era già successo parecchie volte che persone ben intenzionate a cui era nota quella parentela li consigliassero una donna che lei dovrebbe proprio conoscere e appoggiavano su lei con quel certo tono che vuol distinguere l'interlocutore come particolarmente capace di apprezzare un simile gioiello e può significare tanto un sincero complimento quanto la coperta convinzione che gli è proprio lo scemo adatto per fare quella conoscenza perciò aveva già chiesto informazioni sulle particolarità della signora ma senza mai ottenere una risposta soddisfacente gli dicevano ha un indescrivibile fascino spirituale oppure è la donna più bella e più intelligente della nostra società e qualcuno diceva semplicemente è una donna ideale quanti anni ha chiedeva Ulrich ma nessuno lo sapeva e di solito l'interrogato si stupiva di non aver mai rivolto quella domanda a se stesso e il suo amante chi è finì per sbottare Ulrich con impazienza una relazione il giovanotto non privo d'esperienza a cui Ulrich sarà rivolto rimase a bocca aperta già è vero a nessuno verrebbe in mente di supporre una cosa simile una beltà spirituale dunque pensò Ulrich una seconda Diotima e da quel giorno in poi la chiamò fra sé Diotima da quella celebre professoressa dell'amore in realtà si chiamava Ermelinda Tuzzi anzi per dire il vero semplicemente Ermine ora Ermelinda non è neanche la traduzione di Ermine ma lei un bel giorno aveva conquistato il diritto a quel leggiatro nome grazie a un'ispirazione intuitiva cioè esso era risonato improvvisamente al suo orecchio spirituale come una superiore verità anche se il marito continuava a chiamarsi Hans e non Giovanni e a dispetto del suo cognome aveva imparato l'italiano all'accademia consolare contro il capodivisione Tuzzi Ulrich non aveva minore prevenzione che contro la sua sposa in un ministero che come ministero degli esteri e della casa regnante era ancora più feudale degli altri uffici governativi egli era l'unico funzionario borghese che rivestisse una carica autorevole ne dirigeva la divisione più importante era considerato il blaccio destro anzi ma questo si susurrava soltanto il cervello del suo ministro e contava fra i pochi uomini che hanno un influsso sui destini dell'Europa ma quando in un ambiente così superbo un borghese sale tanto in alto si può ragionevolmente dedurne il possesso di certe qualità dove confluiscono in modo vantaggioso l'insostituibilità personale con l'abilità di ritrarsi modestamente nello sfondo e Ulrich non era lontano del figurarsi l'autorevole capodivisione come una specie di lindo sergente maggiore di cavalleria addetto a comandare le reclute dell'alta nobiltà lo contemplava acconciamente quella moglie che egli pur avendone udito celebrare la bellezza immaginava non più giovane ambiziosa e con una certa rigida corazza di cultura borghese ma una grossa sorpresa lo attendeva quando le fece visita Diotima lo accolse col sorriso indulgente della donna di valore che sa di essere anche bella e deve perdonare agli uomini superficiali di pensare sempre e prima di tutto a quello l'aspettavo e la disse e Ulrich non capì bene se fosse una gentilezza o un rimprovero la mano che lei gli porgeva era paffuta e senza peso egli la trattenne un po' troppo a lungo i suoi pensieri non riuscirono a staccarsi subito da quella mano stava nella sua come un petalo carnoso le unghie appuntite simili a elitre sembravano sul punto di volar via con lei nell'irreale Ulrich pensava sbalordito alla stranezza della mano femminile un organo umano abbastanza impudico in fondo che si caccia dappertutto come il muso di un cane ma ufficialmente la sede della lealtà della nobiltà e della raffinatezza durante quei pochi momenti egli osservò che il collo di Diotima formava parecchi cordoni rivestiti di pelle finissima i capelli erano appuntati in una crocchia alla greca che sporgeva compatta e nella sua perfezione somigliava a un nido di vespe Ulrich si sentì invadere da un sentimento ostile una voglia di muovere a sdegno quella donna sorridente ma non poteva restare del tutto indifferente alla bellezza di Diotima anche Diotima lo guardò a lungo quasi esaminandolo aveva sentito narrare di quel cugino parecchie cose che avevano per lei una leggera tinta di scandalo privato e l'uomo per di più le era parente Ulrich si accorse che anche lei non poteva sottrarsi all'impressione fisica prodotta da lui c'era abituato era alto glabro muscoloso e pieghevole con una faccia chiara e impenetrabile in una parola anche lui si vedeva talvolta come l'immagine preconcetta che si fanno quasi tutte le donne di un uomo interessante e ancora giovane però non aveva sempre la forza di disingannarla in tempo Diotima invece si difese contro quell'impressione facendo l'oggetto della propria commiserazione spirituale Ulrich si avvedeva benissimo che lei non cessava di osservarlo traendone non sgradevoli sensazioni mentre forse andava dicendosi che le nobili qualità di lui evidentemente possedute erano sopraffatte da una vita cattiva e dovevano senz'altro essere salvate sebbene ella fosse poco più giovane di Ulrich e fisicamente in piena aperta fioritura c'era nel suo aspetto qualcosa di virginale di spiritualmente non ancora sbocciato che formava un bizzarro contrasto con la sua sicurezza di sé incominciarono a parlare ma senza smettere di osservarsi l'un l'altro Diotima partecipò col dichiarare che l'azione parallela era un'occasione unica per tradurre in realtà il più grande e più importante ideale dobbiamo e vogliamo attuare un'altissima idea l'occasione si offre e sarebbe imperdonabile lasciarsela sfuggire Ulrich chiese ingenuamente ma lei ha in proposito un pensiero preciso? no Diotima non l'aveva come avrebbe potuto nessuno di quelli che parlano del più grande e più importante ideale dell'umanità crede che esista davvero quale strana caratteristica del mondo è mai questa tutto tende alla conclusione che una cosa è più grande più importante o magari più bella o più malinconica di quell'altra cioè a una graduatoria a una comparazione e questo non dovrebbe comportare dei vertici dei superlativi se si fa questa osservazione a chi si accinge a parlare del più grande più importante ideale si è subito guardati con sospetto come individui privi di sentimento e di idealismo anche Diotima alla domanda di Ulrich ebbe quel sospetto Diotima donna di cui tutti ammiravano l'intelligenza trovò impertinente l'obiezione sorrise e dopo qualche attimo rispose vi sono tante cose grandi e buone non ancora realizzate che la scelta non sarà facile ma costruiremo comitati con membri di tutte le classi ed essi ci saranno d'aiuto non trova anche lei signor Fon che è un privilegio immenso poter invitare una nazione anzi il mondo intero a rivolgere la mente alle cose dello spirito in mezzo alla baronda materialistica non deve credere che noi perseguitiamo scopi patriottici in senso ormai vieto Ulrich se la cavò con uno scherzo Diotima non rise sorrise soltanto era avvezza agli uomini spiritosi ma quelli all'infuori dell'arguzio avevano altri aspetti i paradossali puri le sembravano persone immature ed ella sentì il bisogno di far notare al cugino la serietà dei fatti che conferiva alla grande iniziativa patriottica dignità e responsabilità adesso parlava in un altro tono che conchiudeva e dischiudeva senza volerlo Ulrich cercò fra le sue parole i cordini gialli e neri che si usavano negli uffici ministeriali per legare atti e documenti ma dalla bocca di Diotima non uscivano soltanto termini della burocrazia statale ma anche frasi da intellettuali iniziati come tempi senza anima dominati soltanto dalla logica e dalla psicologia oppure il presidente e l'eterno e improvvisamente parlò anche di Berlino e del tesoro di sentimenti che a differenza della Prussia l'Austria ancora custodiva Ulrich fece due o tre tentativi di interrompere quella specie di spirituale discorso della corona ma subito l'odore di sagrestia dell'alta burocrazia avvolgeva come una nube l'interruzione velandone discretamente l'indelicatezza Ulrich era sbalordito si alzò la sua prima visita era evidentemente finita in quei pochi minuti di ritirata Diotima lo trattò con la gentilezza blanda esagerata palesemente e per precauzione che aveva imparato dal marito il quale ne faceva uso nei rapporti coi giovani patrizi che erano suoi subordinati ma che un giorno avrebbero potuto diventare ministri nel mondo come ella lo invitò a ritornare c'era qualcosa dell'orgogliosa incertezza dello spirito di fronte alla rozza forza vitale quando egli tenne di nuovo nella sua quella mano morbida e senza peso si guardarono l'un l'altro negli occhi Ulrich ebbe la netta impressione che erano destinati a procurarsi reciprocamente grandi fastidi per motivi amorosi davvero pensò è un'idra di bellezza aveva intenzione di lasciare che l'azione parallela aspettasse in vano il suo soccorso ma essa pareva essersi personificata in diotima ed era pronta a divorarlo l'impressione era in parte comica nonostante l'esperienza e l'età egli vedeva se stesso come un vermicello nocivo attentamente contemplato da una grossa gallina per calità pensò Ulrich purché questa gigantessa della morale non mi provochi a compiere piccole vigliacchierie era stanco della relazione con Bonadea e si era imposto una riservatezza estrema mentre lasciava quella casa lo consolò un'impressione piacevole già provata all'arrivo lo aveva accolto una piccola cameriera dallo sguardo sognante nel buio del vestibolo i suoi occhi gli erano venuti incontro palpitando come farfalle nere e ora mentre gli usciva calarono giù nella penombra come neri fiocchi di neve qualcosa di arabo giudaico o di giudaico algerino immagine appena abbozzata era così indistintamente grazioso nella piccina che Ulrich anche questa volta dimenticò di osservarla meglio solo quando si trovò nella strada sentì che dopo essere stato al cospetto di Diotima la vista di quella fanciulletta gli dava un senso straordinario di freschezza e di vivacità 22 prima intrusione di un grand'uomo dopo la partenza di Ulrich Diotima e la sua cameriera rimasero in preda a una leggera eccitazione ma mentre la lucertolina nera ogni volta che accompagnava alla porta un distinto visitatore aveva l'impressione di potersene guizzare via come un lampo su per una grande parete luminosa Diotima invece maneggiò il ricordo di Ulrich con la coscienza di una donna alla quale non dispiace essere trattata ingiustamente perché senta in sé il potere di un'amorevole riprensione Ulrich non sapeva che quello stesso giorno un altro uomo era entrato nella vita di Diotima e la sollevava con sé come un gigantesco belvedere scoprendo le sterminate possibilità il dottor Paul Arnheim era venuto a presentarle i suoi omaggi appena arrivato a Vienna era smisuratamente ricco suo padre era il più potente dominatore della ferrea Germania e persino il capodivisione Tuzzi si era lasciato andare a questo gioco di parole uno dei principi di Tuzzi era che bisogna essere parchi nelle espressioni e che i giochi di parole poiché non se ne può fare del tutto a meno in una conversazione geniale non devono essere però troppo buoni perché ciò sarebbe borghese e gli aveva raccomandato a sua moglie di ricevere il visitatore con tutti gli onori perché anche se quella specie di gente non primeggiava ancora nel terzo Reich e il loro influsso a corte non si poteva ancora paragonare a quello dei Krupp ciò poteva tuttavia accadere domani e aggiunse che secondo una voce molto confidenziale il figlio più che quarantenne d'altronde non soltanto aspirava alla posizione del padre ma con l'aiuto del tempo e delle sue relazioni internazionali si preparava a diventare ministro è vero che a giudizio del capodivisione Tuzzi ciò era assolutamente escluso a meno che si preparasse la fine del mondo non immaginava quale tempesta avessero scatenato questi discorsi nella fantasia di sua moglie si intende che secondo le convinzioni del suo ambiente e la non stimava granché i mercanti ma come tutte le persone di mentalità borghese ammirava la ricchezza in un recesso del cuore che è completamente indipendente dalle convinzioni e la conoscenza personale con un uomo ricco oltremisura le faceva l'effetto di ali dorate di cherubini che fossero scese fino a lei da quando il suo marito aveva incominciato a fare carriera e il Melinda Tuzzi sarà abituata ad aver da fare con la gloria e con la ricchezza ma la gloria acquistata con le opere dell'intelletto svanisce molto rapidamente agli occhi di chi bazzica con i suoi possessori e la ricchezza feudale ha troppo spesso l'aspetto di giovani attaché indebitati oppure è legata a uno stile di vita tradizionale non ha mai lo spumeggiante pullulare delle montagne d'oro liberamente accumulate né il brivido del denaro traboccante e corrusco col quale le grandi banche e le industrie mondiali provvedono ai loro affari dell'organismo bancario Diotima sapeva soltanto che anche i suoi impiegati di media importanza viaggiano in prima classe quando si trovano in servizio mentre lei se non era in compagnia del marito doveva viaggiare in seconda e da ciò si era fatta un'idea del lusso che doveva circondare i despoti supremi di quel mondo orientale la sua cameriera Raquel non occorre dire che Diotima quando la chiamava ne pronunciava il nome alla francese aveva udito narrare di Arnheim cose fantastiche il meno che si diceva era che il nababbo era arrivato con un treno di sua proprietà aveva preso in affitto un albergo intero ed era sempre seguito da un piccolo schiavo negro la verità era assai più modesta non fosse altro perché Paul Arnheim non si comportava mai in modo da dare nell'occhio il solo particolare del ragazzo negro era vero Arnheim l'aveva tolto anni prima da una truppa di saltimbanchi durante un viaggio nell'estremo sud dell'Italia e se l'era portato con sé nel desiderio di farsene bello misto con lo slancio di togliere una creatura umana dal fango e dischiudendole la vita dello spirito esercitare su di essa l'opera di Dio più tardi però gliene era passata la voglia e ormai impiegava il ragazzo che aveva già sedici anni soltanto come servitore mentre prima dei quattordici gli aveva dato da leggere Stendhal e Dumas ma anche se le voci raccolte dalla piccola cameriera nella loro esagerazione erano così puerili che Diotima doveva sorriderne ella se le faceva però ripetere parola per parola trovando tutto ciò così incorrotto come poteva succedere soltanto in quella metropoli piena di civiltà fino all'innocenza e il ragazzo negro colpì strano a dirsi anche la sua fantasia Diotima era la maggiore delle tre figlie di un professore di scuola media senza beni patrimoniali così che Tuzzi le era già parso un buon partito quando era soltanto un ignoto viceconsole borghese la ragazza ella non possedeva che il proprio orgoglio e poiché a sua volta non possedeva nulla di cui essere orgogliosa era in fondo null'altro che una correttezza ragomitolata su se stessa con tentacoli protesi di sentimentalità ma anche quella nasconde a volte ambizione e fantasticheria e può essere una forza incalcolabile se Diotima era stata allettata in principio dalla prospettiva di lontani intrighi in terre lontane il disinganno non si fece aspettare pochi anni dopo ella non ne cavava più se non vantaggio usato con discrezione sulle amiche che le invidiavano l'alone di esoticità e non poteva non riconoscere che negli aspetti essenziali la vita nelle missioni esterne rimane sempre la vita portata da casa con gli altri bagagli l'ambizione di Diotima per molto tempo era stata sul punto di finire nella dignità senza avvenire del quinto grado prima che improvvisamente il caso desse l'avvio all'ascesa del marito cioè quando un ministro benevole progressista volle presso di sé nell'ufficio presidenziale il funzionario borghese molta gente veniva lì da Tuzzi a chiedergli dei favori e da quel momento si ravvivò in Diotima quasi con suo stupore un tesoro di ricordi intorno alla bellezza e nobiltà spirituale che essa affermava di aver acquistato nell'intellettuale casa paterna e nei grandi centri del mondo ma che in verità aveva assimilato come allieva diligentissima delle scuole normali e incominciò a farlo fruttare prudentemente la fama dell'intelligenza moderata ma fidatissima di suo marito aveva attirato automaticamente l'attenzione anche su di lei ed ella ormai operava senza malizia come una spugna bagnata la quale torna a mettere fuori ciò che ha assorbito senza scopo particolare intrecciando con sommo diletto alla conversazione appena vedeva apprezzate le proprie doti spirituali piccole idee di altissima intellettualità e a poco a poco mentre suo marito continuava a salire cresceva il numero di quelli che gli facevano la corte e la casa di Diotima diventò un salotto dove si incontravano la cultura e la società frequentando persone che avevano un'autorità in vari campi Diotima incominciò anche seriamente a scoprire se stessa la sua correttezza sempre allerta come nei tempi della scuola capace di ricordare perfettamente quello che imparava e di amalgamarlo in un insieme gradevole diventò intellettualità indipendente semplicemente per allargamento e casa Tuzzi si guadagnò una posizione riconosciuta 23 cultura e capitale l'amicizia di Diotima e del conte Leinsdorf e l'ufficio di mettere ospiti illustri in accordo con l'anima divenne però un concetto ben definito soltanto in seguito all'amicizia di Diotima con sua signoria il conte Leinsdorf tra le parti del corpo umano che servono a classificare le amicizie quella di sua signoria era situata in una regione fra la testa e il torace cosicché non si potrebbe definire Diotima altrimenti che la sua amica del cuore se l'espressione si potesse ancora usare sua signoria ammirava la bellezza e lo spirito di Diotima senza permettersi intenzioni illecite grazie alla sua protezione il salotto di Diotima non solo acquistò una solidità incrollabile ma adempì anche a un alto ufficio come gli soleva dire per parte sua il conte non mediatizzato era nient'altro che patriota lo stato però non è costituito soltanto dalla corona e dal popolo con l'amministrazione nel mezzo ma va in esso anche un'altra cosa il pensiero la morale l'idea sua signoria era profondamente religiosa ma penetrata come era dal senso di responsabilità e possedendo per di più nelle sue terre alcune fabbriche che gestiva personalmente doveva riconoscere che in molte cose oggi lo spirito si è sottratto alla tutela della chiesa egli non sapeva immaginare infatti in che modo una fabbrica un movimento del mercato granario o una campagna per gli zuccheri si potessero guidare secondo principi religiosi mentre d'altra parte senza la borsa o l'industria non sarebbe razionalmente pensabile un latifondista moderno e quando il suo direttore amministrativo gli spiegava che un certo affare si poteva far meglio con un gruppo di speculatori stranieri che a fianco della nobiltà terriera austriaca egli si lasciava per lo più indurre alla prima soluzione perché i fatti positivi hanno una loro logica alla quale non si può oppurre il sentimento quando si è a capo di grandi organismi e se ne porta la responsabilità non solo per sé ma per l'esistenza di moltissime altre persone va infatti una coscienza professionale che talvolta è in contrasto con quella religiosa e il conte Leinsdorf era convinto che nemmeno il cardinale arcivescovo al suo posto avrebbe potuto agire in modo diverso naturalmente il conte Leinsdorf era sempre pronto a deplorare pubblicamente in senato questo stato di cose e ad esprimere la speranza che la vita fosse per ritornare alla semplicità alla naturalezza alla salute e necessità dei principi cristiani appena apriva la bocca per simili dichiarazioni egli toglieva per così dire il contatto e si inseriva subito in un altro circuito elettrico del resto succede così alla maggior parte della gente quando devono parlare in pubblico e se qualcuno avesse rimproverato a sua signoria di fare in privato ciò che condannava in pubblico egli con santa convinzione avrebbe bollato quell'accusa come pettegolezzo demagogico di elementi sovversivi che non hanno un'idea della diffusa responsabilità della vita tuttavia riconosceva anche lui che una congiunzione fra le verità eterne e gli affari tanto più intricati che la bella semplicità della tradizione costituisce una faccenda di grandissima importanza e aveva anche scoperto che non la si può non ricercare se non nell'approfondimento della cultura borghese con i suoi grandi pensieri e ideali sul terreno del diritto del dovere della morale e della bellezza essa si stendeva sino al conflitto del giorno e alle contraddizioni quotidiane e gli sembrava un ponte gettato tra le due sponde e fatto di piante intrecciate e vive non si poteva appoggiarvisi sopra saldi e sicuri come sui dogmi della chiesa però non era meno necessario e impegnativo e per questo il conte Leinsdorf non era soltanto un idealista religioso ma anche un fervido idealista civile a queste convinzioni di sua signoria corrispondeva nella sua composizione il salotto di Diotima i ricevimenti di Diotima erano famosi perché nei giorni di Gala vi si incontravano personaggi con i quali di solito era impossibile scambiare parola essendo essi nella loro specialità troppo famosi perché si potesse ciarlare con loro delle ultime novità mentre il ramo del sapere a cui era legata la loro fama mondiale sovente non sarà mai sentito nominare erano studiosi del Kenzi e del Canesico poteva succedere che un grammatico del Bo si scontrasse con un partigenista un po' contologo con un teorico quantista senza contare i rappresentanti di nuove correnti dell'arte e della poesia che ogni anno cambiavano nome i quali erano messi in numero minore che i loro colleghi arrivati in generale la frequenza era regolata in modo che tutto si mescolasse armonicamente solo i giovani intellettuali Diotima teneva di solito in disparte con inviti separati e sapeva preferire e far brillare con discrezione gli ospiti rari o eccezionali ma ciò che distingueva la casa di Diotima da tutte le altre simili era se così si può dire l'elemento laico quell'elemento d'applicazione pratica delle idee che per parlare con Diotima si schierava un tempo intorno al nucleo centrale delle scienze teologiche come un popolo di attivi credenti come una comunità in fondo costituita interamente da sorelle e fratelli laici in breve l'elemento dell'azione e oggi che le scienze teologiche sono state soppiantate dall'economia politica e dalla fisica l'elenco di Diotima degli invitanti amministratori dello spirito sulla terra era diventato col tempo simile al catalogo of scientific papers of british royal society e i fratelli e sorelle laici conformemente al nuovo stato di cose erano i direttori di banca i tecnici gli uomini politici consigliari ministeriali e signore e signori dell'alta società Diotima si dava molta premura per le donne ma preferiva le dame alle intellettuali oggi la vita è troppo gravata di sapere e la soleva dire perché si possa rinunciare alla donna integrale era persuasa che solo la donna integrale possedesse ancora a quel potere fatale capace di avvincere l'intelletto con le forze dell'essere del che secondo lei l'intelletto aveva molto bisogno per la propria redenzione per questo doppio concetto della donna avvincente delle forze dell'essere era altamente apprezzata dai giovani aristocratici che frequentavano la sua casa giacché l'essere infrazionabile è una cosa che va a genio della nobiltà e casatuzzi dove ci si poteva ma questo Diotima non lo sospettava neppure sprofondare a coppie in un discorso senza dare nell'orecchio era ancora più ricercata di una chiesa per amorosi incontri e lunghi colloqui sua signoria il conte Leinstorf abbracciava questi due elementi in sé tanto moltiformi che si mescolavano nel salotto di Diotima con la definizione cultura e capitale quando non li chiamava addirittura la vera elite ancor più volentieri adoperava per essi il termine funzione che nel suo pensiero occupava un posto privilegiato e gli sosteneva che ogni prestazione non solo quella di un impiegato ma anche quella di un operaio o di un violinista era una funzione ogni individuo e gli diceva ha una funzione nello stato l'operaio il principe l'artigiano sono funzionari era questa un'emanazione del suo pensiero sempre e dovunque realistico che non conosceva protezionismi e ai suoi occhi anche le dame e i gentiluomini dell'alto patriziato che chiacchieravano con gli studiosi delle iscrizioni di Bozacoi e dei molluschi lamelli branchi occhieggiando le mogli dell'alta finanza adempivano una funzione importante quantunque difficilmente determinabile quel concetto di funzione era per lui l'equivalente di ciò che Diotima chiamava l'unità religiosa dell'azione umana scomparsa fin dal medioevo e in fondo una socialità forzata come quella di casa Tuzzi scaturisce realmente quando non è del tutto rozza ingenua dal bisogno di fingere un'unità umana che dovrebbe comprendere tutte le così varie attività dell'uomo e che non esiste mai quell'illusione Diotima la chiamava civiltà e di solito con l'aggiunta speciale dell'antica civiltà austriaca da che la sua ambizione dilatandosi era diventata intellettualità e l'aveva imparato a servirsi sempre più spesso di quella frase per lei voleva dire i bei quasi di Velasquez e di Rubens che si ammirano nei musei imperiali il fatto che Beethoven era per così dire austriaco Mozart Haydn il duomo di Santo Stefano il Burgtheater il cerimoniale di corte carico di tradizioni il quartiere entro il ring dove erano stipati i più bei negozi d'abito e di biancheria di un paese che aveva 50 milioni d'abitanti la signorilità discreta degli alti funzionari la cucina viennese la nobiltà che si considerava seconda solo a quella inglese e i suoi antichi palazzi il tono della società pervaso a volte di autentico a volte di falso estetismo e anche il fatto che in quel paese un gran signore come il conte Leinsdorf dedicasse a lei le proprie attenzioni e trasferisse in casa sua le proprie aspirazioni culturali essa ignorava che sua signoria lo faceva anche perché gli sembrava poco dignitoso aprire il proprio palazzo a certe innovazioni delle quali è poi difficile conservare il controllo il conte Leinsdorf inorridiva segretamente per la libertà e l'indulgenza con cui la sua bella amica parlava delle passioni umane e degli sconvolgimenti che cagionavano o delle idee rivoluzionarie ma Diotima non se ne accorgeva essa conservava una netta separazione fra l'impudicizia diciamo così ufficiale e la castità privata come una dottoressa o un assistente sociale era urtata come toccata sul vivo se una parola rivolta a lei le pareva audace ma impersonalmente parlava di tutto sentendo soltanto che il conte Leinsdorf era molto attratto da quella mescolanza 24 la vita però non edifica niente senza cavare le pietre altrove condolente meraviglia di Diotima un piccolissimo granellino di fantasia dolce e sognante già rinchiuso nella sua vita quando essa non conteneva altro e ancora presente quando ella si era risolta a sposare il vice console Tuzzi che pareva un baule di cuoio con due occhi scuri negli anni del successo era irrimediabilmente sparito certo molto di quella che lei intendeva per antica cultura austriaca come Haydn o Jasburgo era stato un tempo null'altro che noiosa materia di studio mentre adesso saperci vivere dentro ne appariva pieno di un fascino maglioso eroico quanto il ronzio delle api nella calura estiva ma col tempo la cosa si faceva non soltanto monotona ma anche faticosa e senza speranza succedeva a Diotima con i suoi invitati celebri quello che succedeva al conte Landstorf con le sue combinazioni di banca si aveva un bel desiderare di metterli d'accordo con l'anima non c'era verso di riuscirvi le automobili e di raggio Rentingen si può parlare sono cose che suscitano ancora dei sentimenti ma che dire di tutte le altre innumerevoli invenzioni e scoperte pullulanti ogni giorno se non ammirare genericamente l'ingegnosità umana il che alla lunga è proprio scocciante sua signoria veniva ogni tanto o si faceva presentare un nuovo invitato era comodo per lui estasiarsi sulla cultura approfondita ma quando bisognava occuparsene continuamente come Diotima appariva chiaro che non la profondità ma l'ampiezza della cultura e la difficoltà insuperabile perfino le questioni facilmente accessibili come la nobile semplicità ellenica o il genio dei profeti si scomponevano parlando con gli intenditori in una sterminata molteplicità di dubbi e di supposizioni Diotima fece l'esperienza che alle sue serate anche gli ospiti illustri si intrattenevano a due a due perché già allora una persona poteva parlare concretamente e ragionevolmente tutt'al più solo con un'altra persona e lei in fondo non poteva farlo con nessuno con ciò Diotima aveva scoperto in sé il male già noto dell'uomo contemporaneo che si chiama civiltà è una stato fastidioso pieno di sapone di onde senza filo del presuntuoso linguaggio simbolico delle formule chimiche e matematiche di economia politica di ricerca sperimentale e dell'inidoneità a una semplice ma elevata convivenza umana e anche il rapporto fra la propria nobiltà spirituale e la nobiltà sociale e le cagionava in mezzo ai successi qualche amara delusione le parve sempre più congegnato con me proprio non di un'era di cultura ma semplicemente di un'era di civiltà civiltà era per conseguenza tutto ciò che il suo spirito non poteva dominare e perciò lo era anche da molto tempo e prima di tutto suo marito 25 le sofferenze di un'anima coniugata nel suo soffrire leggeva molto e scoprì di aver smarrito una cosa del cui possesso non era mai stata ben consapevole un'anima che cos'è? facile definirla negativamente è quella cosa che scappa a rintanarsi quando sente parlare di serie algebriche ma positivamente pare che si sottragga con successo a tutti gli sforzi intesi ad afferrarla può darsi che una volta ci fosse indiotima qualcosa di originario una presaga sensitività drappeggiata in quel tempo nella ben spazzolata veste della sua correttezza che adesso la chiamava guaina e che ritornava nella metafisica baticata di Metterling in Novalis soprattutto però nell'ondata anonima di romanticismo anacquato e di nostalgia religiosa che l'età delle macchine ha per un certo tempo emanato come manifestazione di protesta spirituale e artistica contro se stessa forse questo elemento primitivo indiotima si potrebbe meglio definire come una dose di tenerezza di quiete di devozione e di bontà e non aveva mai trovato la strada giusta e in quel gioco delle figurine di piombo a cui il destino si trastulla con noi aveva preso la formula ridicola del suo idealismo forse era fantasia forse intuizione dell'istintivo lavorio vegetativo che si svolge quotidianamente al di sotto della pelle mentre al di sopra ci guardano con espressione sublime gli occhi di una bella donna forse venivano ore indefinibili in cui ella si sentiva ampia e calda i sentimenti parevano più alati del solito l'ambizione e la volontà si placavano una leggera ebbrezza e pienezza di vita li invadeva i pensieri distolti dalla superficie si rivolgevano verso il profondo anche se dedicati a infime questioni e gli avvenimenti del mondo erano lontani come il rumore intorno a un giardino allora di otima credeva di vedere in sé la verità immediata senza doversene preoccupare delicate vicende che ancora non avevano nome si toglievano il velo ed ella si sentiva per citare qualcuna delle molte definizioni offertele dalla letteratura armonica umana religiosa vicina a una profondità originaria che fa sacro tutto ciò che scaturisce da essa e peccaminoso tutto ciò che non viene da quella fonte ma sebbene fosse assai bello pensare queste cose di otima non si fermava allo stadio del presentimento dell'accenno e nemmeno la scorrevano i libri profetici a cui chiedere consiglio i quali parlavano lo stesso linguaggio enigmatico e impreciso non rimaneva a di otima che imputare anche questa colpa a un'era di civiltà in cui le vie d'accesso all'anima sono ingombre e franate probabilmente quello che lei chiamava anima era semplicemente un piccolo capitale di disposizione all'amore che lei possedeva prima di sposarsi il capo di visione Tuzzi non offriva una buona possibilità di investimento la sua superiorità su di otima era stata in principio e per molto tempo quella dell'uomo più anziano poi vi si aggiunse quella dell'uomo riuscito dalle attività misteriose che alla moglie poco rivela di sé e che guarda con benevolenza le futilità a cui ella si dedica e tolte le tenerezze del periodo di fidanzamento il capo di visione Tuzzi era sempre stato un uomo utilitario e positivo a cui nulla poteva mai far perdere l'equilibrio tuttavia la tranquilla eleganza delle sue azioni e del suo vestiario il profumo se così si può dire cortesemente riservato del suo corpo e della sua barba la voce baritonale ferma e guardinga lo circondavano di un arone che aveva commosso l'anima della fanciulla di otima come la vicinanza del padrone eccita il cane da caccia che gli appoggia il muso sul ginocchio e come il cane trotterella affettuosamente tenuto al guinzaglio così anche di otima seriamente e concretamente guidata era penetrata nella sterminata regione dell'amore il capo di visione Tuzzi preferiva in quella contrada le vie dirette le sue consuetudini di vita erano quelle di un lavoratore ambizioso al mattino si alzava presto per uscire a cavallo o di preferenza fare un'ora di passeggiata il che serviva a conservare l'elasticità non solo ma rappresentava anche un'abitudine semplice e pedantesca che osservata con scrupolo si intona egregiamente a un quadro di attività e di responsabilità e si intende da sé che la sera quando non ricevevano ne avevano inviti egli si chiudeva subito nel suo studio poiché era costretto a mantenere le sue vaste cognizioni a quell'altezza che gli procacciava la preminenza sui colleghi e sui superiori patrizi una vita di quel genere impone limiti precisi e subordina l'amore alle altre attività come tutti gli uomini la cui fantasia non è intaccata dall'erotismo Tuzzi da scapolo pur facendosi vedere saltuariamente assieme agli amici in compagnia di attricette e coriste per via della riputazione diplomatica era stato un tranquillo frequentatore di case di tolleranza e aveva trasferito nel matrimonio il ritmo regolare di quell'abitudine perciò Diotima imparò a conoscere l'amore in forma di accessi brevi e violenti scatenati solo una volta alla settimana da qualche forza ancora più possente quel repentino mutarnatura dei loro rapporti che avveniva a un dato momento per trapassare dopo pochi minuti a una breve conversazione sugli avvenimenti del giorno e quindi a un placido sonno e di cui non si parlava mai se non tutt'al più per allusioni accenni così come si scherza fra diplomatici sulla patria anteuse del corpo ebbe però per diottima conseguenze inattese e contradditorie innanzitutto fu l'origine del suo iperbolico gonfio idealismo e nacque quella personalità esteriore ufficiosa la cui forza d'amore e le cui aspirazioni psichiche abbracciarono tutto ciò che era visibile all'orizzonte di elevato e di grande dispensandosi e dividendosi così fervidamente che diottima finì per diventare quel sole d'amore ardente ma platonico e tanto sconcertante per la mentalità maschile che Ulrich uditolo descrivere aveva tanta curiosità di conoscere d'altra parte il ritmo largo dei contatti matrimoniali era diventato in lei un'abitudine puramente fisiologica che aveva la sua orbita e si manifestava senza legame con le parti più nobili del suo essere come la fame di un servo i cui pasti sono rari ma sostanziosi col tempo quando spuntarono peluzzi sul labbro di Diotima e alla sua fragilità di fanciulla si sovrappose la virile sicurezza della donna matura ella dovette accorgersene con raccapriccio amava il marito ma con una crescente misura di orrore anzi un terribile rancore dell'anima paragonabile soltanto ai sentimenti che avrebbe potuto provare Archimede sprofondato nelle sue sublime meditazioni se il soldato straniero invece di accopparlo gli avesse fatto proposte oscene e poiché il marito non se ne avvedeva né avrebbe considerato le cose allo stesso modo ma ogni volta i sensi la tradivano suo malgrado e la si sentiva asservita a una tirannide una tirannide che non era considerata disonorevole è vero ma che lei immaginava torturante quanto un tic nervoso o l'ineluttabilità del vizio forse tutto ciò avrebbe soltanto reso Diotima un po' malinconica e ancor più spirituale ma sventuratamente era proprio il momento in cui anche il suo salotto cominciava a dare preoccupazioni il capodivisione Tuzzi incoraggiava naturalmente le tendenze intellettuali della moglie avendo subito intuito il vantaggio che portavano a lui ma non vi aveva mai partecipato e si può anche dire che non le prendeva sul serio e che quell'uomo pieno d'esperienza prendeva sul serio solamente il potere il dovere gli alti natali e per ultimo a una certa distanza l'intelligenza aveva anche messo in guardia parecchie volte Diotima dal porre troppa ambizione negli affari del suo governo spirituale perché sebbene la cultura sia per così dire il sale nella pietanza della vita la buona società non gradisce la cucina troppo sapida lo diceva senza alcuna ironia perché era la sua convinzione ma Diotima si sentiva spregiata nelle riserve del marito sentiva sempre aleggiare un sorriso e che gli restasse a casa oppure no e che quel sorriso se era veramente un sorriso cosa difficile a dirsi fosse rivolto a lei o facesse parte della fisionomia ad un uomo che per motivi professionali deve sempre avere un'aria di superiorità e divenne col tempo sempre più intollerabile senza che ella si potesse ribellare all'odiosa apparenza di aver ragione che egli sembrava arrogarsi Diotima ne dava talvolta la colpa al periodo storico materialista che aveva ridotto il mondo a un gioco maligno e senza scopo dove fra ateismo socialismo e positivismo un idealista non ha la libertà di innalzarsi alla propria vera essenza ma anche questo le giovava a poco questa era la situazione in casa Tuzzi allorché la grande azione patriottica fece precipitare gli eventi da quando il conte Leinsdorf per non compromettere l'aristocrazia aveva trasportato il quartier generale nella casa della sua amica qui dominava una responsabilità inespressa perché Diotima era ben decisa a dimostrare al marito ora o mai che il suo salotto non era un gioco la signoria le aveva confidato che a coronamento dell'azione occorreva una qualche grande idea e lei si divorava dall'ambizione di trovarla il pensiero di dover compiere col contributo di tutto un regno e davanti agli occhi attenti del mondo intero qualcosa che doveva essere una delle più grandi realizzazioni della civiltà o in limiti più modesti qualcosa che doveva mostrare la vera essenza della civiltà austriaca quel pensiero operava su Diotima come se le porte del suo salotto si fossero spalancate e contro le soglie come una continuazione del pavimento battesse il mare infinito non si può negare che la sua prima impressione era stata quella di un vuoto smisurato e abissale le prime impressioni sono sovente le più giuste Diotima fiduciosa che sarebbe accaduto l'incomparabile chiamò a raccolta le sue molte idee mobilitò il pathos delle lezioni di storia udite da scolaretta quando aveva imparato a contare con secoli e regni fece insomma tutto quel che occorre fare in simili casi ma dopo che furono passate a quel modo alcune settimane dovete ammettere che non le era venuta la minima idea sarebbe stato odio quello che Diotima sentì in quel momento contro il marito se di odio un sentimento abbietto fosse mai stata capace perciò si trasformò in malinconia e sorse in lei un rancore contro tutto e tutti non ancora provato mai fu allora che arrivò a Vienna il dottor Arnheim col suo moretto e poco dopo Diotima ricevette la sua visita ricca di conseguenze il connubio dell'anima con l'economia l'uomo capace di attuarlo vuol gustare il fascino barocco dell'antica civiltà austriaca nasce così un'idea per l'azione parallela Diotima non conosceva pensieri illeciti ma probabilmente quel giorno molte varie cose erano celate dietro l'innocente moretto che occupava la sua mente dopo che ella ebbe mandato via dalla sua stanza la cameliera rachel ancora una volta aveva ascoltato benignamente i suoi racconti la bella donna matura si sentiva giovane e ripareva di trastullarsi con un balocco scampanellante una volta i nobili i patrizi avevano servitori negri e la rivide immagini deliziose di gita in slitta con cavalli ingualdrappati lacchè impennacchiati e alberi incipriati di brina ma quell'aspetto fantasioso dei costumi nobiliari era svanito da tempo la vita di società oggi non ha più anima e la pensò qualcosa nel suo cuore prendeva partito per l'audace outsider che ancora osava tenere un domestico negro per il borghese sconvenientemente gran signore per l'intruso che umiliava il privilegio ereditario così come lo schiavo greco erudito umiliava un tempo i suoi padroni romani la sua coscienza di sé rattrappita da scrupoli di ogni genere disertò e gli volò incontro come un'anima sorella e questo sentimento assai naturale in confronto a tutti gli altri suoi le fece dimenticare che il dottor Arnheim quantunque le voci si contraddicessero e notizie attendibili non fossero ancora giunte doveva essere di origine ebraica del padre lo si affermava con certezza solo la madre era morta da tanti anni che ci voleva un po' di tempo per fare indagini precise d'altronde era anche possibile che un certo crudele dolore cosmico nel cuore di Diotima non desiderasse affatto una smentita cautamente Diotima aveva permesso ai suoi pensieri di lasciare il negretto e di accostarsi al suo padrone il dottor Paul Arnheim non era soltanto un uomo ricco ma era anche un uomo superiore la sua celebrità andava al di là del fatto che egli fosse erede di industrie ramificata in tutto il mondo nelle ore di ozio aveva scritto libri che nei grandi circoli avanzati erano giudicati straordinari le persone che costituiscono tali circoli puramente intellettuali sono al di sopra del denaro e della distinzione borghese ma non si deve dimenticare che appunto perciò vanno irresistibilmente in estasi quando un uomo ricco viene ad essere dei loro e per di più un Arnheim nei suoi libri e programmi si faceva banditore niente di meno dell'unione fra l'anima e l'amministrazione ovvero sia fra l'idea e il potere i spiriti sensibili dotati di un sottilissimo fiuto per il futuro sparsero l'annuncio che egli univa in sé quei due poli abitualmente divisi e favorirono la voce che una forza nuova era in cammino chiamata a guidare per il meglio le sorti del regno e chissà forse anche del mondo infatti che i principi e i metodi della vecchia politica e diplomazia d'europa marciassero verso la tomba era una persuasione ormai universalmente diffusa e già sarà iniziato in tutti i campi il periodo di rinnegamento dei tecnici anche lo stato d'animo di Diotima si poteva esprimere come una ribellione contro il modo di pensare della vecchia scuola diplomatica perciò ella ferrò subito la meravigliosa analogia fra la posizione di quella outsider geniale e la propria per di più l'illustre personaggio appena possibile era venuto ad ossequiarla la sua casa era di gran lunga la prima alla quale fosse toccato un simile onore e la lettera di presentazione di un'amica comune parlava dell'autentica cultura della città asburgica e dei suoi abitanti che l'uomo operoso sperava di poter gustare in mezzo agli inevitabili affari quando Diotima ne dedusse che quel celebre forestiero conosceva la sua fama di donna d'ingegno si sentì onorata come uno scrittore tradotto per la prima volta in una lingua straniera notò che egli non aveva affatto il tipo giudaico ma piuttosto l'aspetto nobile e severo di un antico fenicio anche Arheim però rimase incantato di trovare in Diotima una donna che non soltanto aveva letto i suoi libri ma come una statua arcaica rivestita di leggera pinguedine corrispondeva al suo ideale di bellezza che era ellenico ma con un po' più di carne per temperare la rigidezza del classico Diotima sentì ben presto che l'impressione da lei prodotta in un colloquio di venti minuti su un uomo con autentiche relazioni mondiali disperdeva definitivamente tutti i dubbi mediante i quali il suo marito impastoiato ormai da sistemi diplomatici invecchiati l'aveva offesa nella sua dignità ella si ripetè quel colloquio con placida soddisfazione fin dalle prime battute Arheim aveva detto di essere venuto in quell'antica città per riposarsi nell'incanto barocco della vecchia civiltà austriaca dai calcoli dal materialismo dal vuoto raziocinio dell'uomo civile odierno Diotima approvò e soggiunse che Vienna aveva una spiritualità così gioconda si aveva detto lui noi non odiamo più le voci interiori oggi sappiamo troppo e la ragione tiranneggia la nostra vita allora lei aveva risposto io amo assai la compagnia delle donne perché non sanno nulla e sono donne integrali e Armin aveva obiettato tuttavia una donna bella capisce molto di più che un uomo il quale rispetto della sua logica e della sua psicologia non sa nulla della vita e allora lei aveva rivelato che un problema del genere come l'affrancamento dell'anima dalla civiltà però proiettato in una sfera più vasta e statale si stava agitando nei circoli autorevoli si dovrebbe e l'aveva detto e Arnheim interrompendola una cosa meravigliosa portare nella sfera del potere nuove idee o meglio se la cito dirlo e qui diede un lieve sospiro semplicemente idee ma di attimo aveva ripreso si progetta di formare comitati di cui facciano parte persone ad ogni classe per diffondere queste idee e fu proprio allora che Arnheim fece un'osservazione straordinariamente importante e con un accento di così amichevole calore e rispetto che a Diotima rimase profondamente impressa non sarà facile e gli aveva opinato concludere in tal modo qualcosa di grande non una democrazia di comitati ma pochi uomini forti ricchi d'esperienza sia del reale che dell'ideale dovrebbero essere a capo dell'azione finora Diotima si era ripetuto il colloquio parola per parola ma a quel punto tutto si dissolse in una luce splendente ella non ricordava più la propria risposta si era sentita sollevare in alto da una indefinita eccitante sensazione di felicità e di speranza adesso il suo spirito somigliava a un palloncino variopinto sfuggito di mano a un bambino e navigante lassù verso il sole in un meraviglioso fulgore e un attimo dopo si lacerò era nata per la grande azione parallela l'idea che fino allora mancava natura è sostanza di una grande idea sarebbe sarebbe facile dire in che consistesse questa idea ma nessuno avrebbe potuto spiegarne la portata perché questo appunto differenzia un'idea grande e commovente da un'idea comune spesso anzi stranamente comune e sbagliata che essa si trova diciamo così in uno stato di fusione attraverso il quale l'io tocca infinite lontanze e inversamente le lontananze penetrano nell'io così che non si distingue più che cosa appartenga a noi e che cosa appartenga all'infinito perciò le idee grandi e commoventi constano di un corpo che come quello degli uomini è compatto ma caduco e di un'anima immortale che costituisce la loro importanza ma non è compatta anzi a ogni tentativo di afferrarla con fredde parole si dissolve in nulla ciò premesso bisogna dire che la grande idea di Diotima era di affidare al prussiano Arrheim la direzione spirituale della grande azione austriaca quantunque questa contenesse una punta di gelosia per la Germania prussiana ma questo non è che il morto corpo verbale dell'idea e chi lo trova incomprensibile o ridicolo oltraggia un cadavere in quanto all'anima dell'idea invece bisogna dire che era pura e lecita e in tutti i casi Diotima aveva aggiunto alla sua decisione una specie di codicillo per Ulrich non sapeva che anche suo cugino quantunque su un piano molto inferiore ad Armain e occultato dall'effetto di questo ne aveva fatto una certa impressione e probabilmente avrebbe disprezzato se stessa se lo avesse capito ma istintivamente aveva preso un provvedimento difensivo dichiarandolo immaturo davanti alla propria coscienza sebbene Ulrich fosse più vecchio di lei si era proposto di compatirlo e questo facilitò la convinzione che era un dovere scegliere Arnheim invece di lui per la guida dell'azione patriottica ma d'altra parte dopo aver maturato questa deliberazione ne si affacciò anche l'intuizione femminile che il candidato bocciato fosse ormai degno e bisognoso del suo aiuto se qualcosa gli mancava non avrebbe potuto conseguirlo meglio che collaborando alla grande azione la quale gli offriva il destro di star molto vicino a lei e ad Arnheim sicché Diotima decise anche questo ma indubbiamente si trattava soltanto di considerazioni complementari 28 un capitolo che può essere saltato da chi non tiene in gran concetto la meditazione intanto Ulrich stava in casa e lavorava seduto alla sua scrivania aveva ripreso la ricerca interrotta a metà quando si era deciso al ritorno non voleva condurla a termine ma gli faceva piacere esserne ancora capace il tempo era bello ma negli ultimi giorni egli aveva lasciato la casa solo per uscite brevissime non scendeva neanche in giardino aveva tirato le tende e lavorava nella penombra come un acrobata che in un circolo semibuio prima che il pubblico venga ammesso eseguisce davanti a una platea di conoscitori nuove pericolose acrobazie la precisione la forza e la sicurezza di quel pensiero a cui nulla nella vita seguaglia lo riempiva quasi di malinconia spinse in là il foglio coperto di formule e segni dove per ultimo aveva scritto un'equazione di stato dell'acqua come esempio tratto dalla fisica per applicare un nuovo procedimento matematico che gli descriveva ma già da un poco i suoi pensieri si erano sviati non aveva detto a Clarisse qualcosa a proposito dell'acqua si domandò ma non ricordava bene del resto non aveva molta importanza e i suoi pensieri si allargarono pigramente non c'è nulla di più difficile in letteratura che descrivere un uomo che pensa a chi gli chiedeva come facesse a inventare tante cose nuove un grande scopritore rispose pensandoci continuamente e in verità si può ben dire che le idee inaspettate si presentano appunto per il fatto che le si aspetta sono in non piccola parte un risultato del carattere di tendenze costanti di ambizione tenace e di assiduo lavoro come deve essere noiosa questa perseveranza sott'altro riguardo poi la risoluzione di un problema spirituale si svolge all'incirca come quando un cane con un bastone in bocca vuol passare per una porta stretta e gli volta il capo a destra e a sinistra finché il bastone scivola dentro e noi facciamo altrettanto con l'unica differenza che noi non tentiamo così a casaccio ma per esperienza sappiamo già pressa poco come si deve fare e anche se un uomo intelligente pone nelle sue rotazioni maggior destrezza ed esperienza di un cane lo scivolare dentro avviene di colpo e anche per lui giunge inatteso ed egli percepisce chiaramente in sé un leggero senso di stupore stizioso che i pensieri si siano fatti da soli invece di aspettare il loro artefice molta gente oggigiorno da quello stizioso stupore il nome di intuizione dopo che per molto tempo lo si è chiamato anche ispirazione e credono di dovervi vedere qualcosa di super personale invece è esclusivamente impersonale cioè l'affinità e l'omogeneità stessa delle cose che si incontrano in un cervello quanto più il cervello è acuto tanto meno lo si nota perciò la meditazione finché non è condotta a termine è in fondo uno stato pietosissimo una specie di colica di tutte le circonvoluzioni del cervello e quando è finita non ha più la forma del pensiero in cui la si compie ma già quella è di ciò che si è pensato ed è purtroppo una forma impersonale perché il pensiero è allora volto verso l'esterno e preparato per essere comunicato al mondo per così dire insomma quando un individuo pensa è impossibile cogliere il momento tra il personale e l'impersonale quindi la meditazione è un tal guaio per gli scrittori che essi preferiscono evitarla uomo senza qualità ad ogni modo stava pensando bisogna concluderne che almeno in parte ciò non era un fatto personale e che cos'era allora mondo che va e che viene aspetti del mondo che si configurano in un cervello non aveva fatto nessuna riflessione importante dopo essere ricorso all'esempio dell'acqua non gli era venuto in mente nulla se non che l'acqua è un elemento tre volte più copioso della terra anche se si considera soltanto quel che tutti riconoscono per acqua fiumi mari laghi sorgenti per molto tempo ci è creduto che fosse affine all'aria il grande newton lo credeva e la maggior parte del suo pensiero è valida ancora oggi secondo i greci il mondo e la vita erano sorti dall'acqua l'acqua era un dio o che anos più tardi si inventarono le linfe gli elfi le ondine le sirene scorsero templi e oracoli lungo le sue rive ma anche i duomi di hildersheim paderborn e brema sono stati edificati dove scaturivano fonti eppure non durano forse ancora e non si battezza ancora con l'acqua e non vi sono amici dell'acqua e apostoli dell'idroterapia la cui anima ha una specie di strana sanità sepolcrale c'era dunque nel mondo un luogo come un punto cancellato o un'ombra calpestata e naturalmente c'era posto anche per la scienza moderna in qualche parte della coscienza dell'uomo senza qualità che gli ci pensasse o no e allora l'acqua è un liquido in colore azzurro soltanto quando si presenta in gran massa senza odore senza sapore come si è ripetuto tante volte a scuola che non lo si potrà mai dimenticare sebbene dal punto di vista fisiologico contenga anche batteri materie vegetali aria ferro solfato di calcio bicarbonato di calcio e dal punto di vista fisico il prototipo di tutti i liquidi non sia in fondo un liquido ma un corpo solido un liquido o un gas secondo i casi alla fine tutto si dissolve in sistemi di formule in qualche modo collegate fra loro e nel vasto mondo non ve che qualche dozzina di persone le quali persino di una cosa semplice come l'acqua pensino allo stesso modo tutti gli altri ne parlano in linguaggi che stanno di casa in qualche punto fra oggi e alcune migliaia d'anni fa dunque si deve dire che un uomo per poco che si metta a riflettere va in un certo modo a finire in una compagnia molto scombinata ora Ulrich si ricordava di aver fatto tutto questo discorso a Clarisse ed essa era ignorante come una bestiola ma nonostante le superstizioni di cui era impastata si sentiva vagamente una rispondenza in lei gli dava una fitta come un aguarroventato se ne irritò la nota difficoltà del pensiero scoperta dai medici di sciogliere e distruggere i contrasti profondamente radicati e morbosamente aggrovigliati che si formano nelle oscure regioni dell'io è fondata con ogni probabilità sulla sua essenza sociale che congiunge il singolo individuo con gli altri uomini e cose sventuratamente però ciò che dà al pensiero la virtù sanatrice pare sia nel contempo ciò che ne diminuisce il valore personale ed esperienza il fuggevole accenno a un pelo su un naso pesa assai più di un pensiero rilevantissimo e azioni sentimenti e affetti se si ripetono comunicano l'impressione di aver assistito a un avvenimento a una più o meno importante vicenda personale per comune e impersonale che sia stupido pensò le tende della finestra i tronchi degli alberi erano ancora umidi di rugiada sulla strada fluttuava un violaceo vapore di benzina il sole lo penetrava e la gente si muoveva vivacemente era una primavera d'asfalto ora in piano autunno una di quelle giornate primaverili fuori stagione che le città sanno magicamente evocare piegazione ed intermittenze di un normale stato di coscienza urich aveva concordato con bonadea un segno per farle capire che era solo in casa era sempre solo ma non dava quel segno doveva aspettarsi da un momento all'altro che bonadea non chiamata entrasse col viso nascosto dal cappello e dal velo perché bonadea era straordinariamente gelosa e quando si recava da un uomo fosse anche per dirgli soltanto che lo disprezzava giungeva sempre prostrata dall'intima debolezza perché le impressioni del tragitto e gli sguardi degli uomini che incontrava oscillavano dentro di lei come un leggero mal di mare se l'uomo lo indovinava e calava dritto su di lei pur avendola trascurata per tanto tempo e la si offendeva litigava rinviava con viagimi e recriminazioni ciò che in realtà aspettava spasmodicamente e aveva qualcosa di un'anitra ferita all'ala che è caduta nel mare dell'amore e tenta di salvarsi a nuoto ed ecco bonadea a un tratto era proprio lì si scioglieva in lacrime e si sentiva profanata nei momenti in cui era in collera con l'amante provava verso il marito un appassionato rimorso delle proprie colpe secondo una buona vecchia regola delle donne infedeli che se applicano per non tradirsi con una parola sconsiderata e lei gli aveva parlato dell'interessante studioso che incontrava talvolta in casa di un'amica ma che non invitava perché era troppo viziato in società per venire spontaneamente da lei e lei non ci teneva poi tanto da invitarlo lo stesso quella mezza verità le arrevolava la menzogna e per l'altra metà se la pigliava con l'amante che cosa doveva pensare il marito e la chiese se la vedeva ridurre a un tratto le visite all'amica di cui si era fatto schermo come spiegargli simili oscillazioni della simpatia lei venerava la verità perché venerava tutti gli ideali e Ulrich la disonorava costringendola a scordarsene più del necessario gli fece una scena appassionata e quando fu finita rimproveri proteste d'amore baci rovinarono nel vuoto che le parole violente avevano scavato quando furono finiti anche quelli non era successo nulla il vuoto fu colmato dalle chiacchiere rifluenti e il tempo fece le bollicine come un bicchiere d'acqua stentia com'è più bella quando è fuori di sé pensò Ulrich e poi come tutto di nuovo si è svolto meccanicamente nel vederla si era commosso e lasciato tracinare dalle tenerezze ora dopo che era accaduto sentiva di nuovo che lei gli importava poco l'incredibile rapidità di simili mutamenti che trasformano un essere normale in un pazzo schiumante non gli era mai stata così chiara però gli parve che la metamorfosi amorosa della coscienza fosse soltanto un caso particolare di qualcosa di assai più generale perché anche una serata a teatro un concerto una funzione religiosa tutte le manifestazioni dell'intimo sono oggi le isole subito svanite di un secondo stato di coscienza che si inserisce temporaneamente in quello solito poco fa stavo ancora lavorando pensò e prima ero per via e ho comprato della carta ho salutato un signore che incontro alla società di fisica pochi giorni or sono ho fatto con lui una conversazione molto seria e adesso se Bonadea volesse spicciarsi un poco potrei sfogliare quei libri che vedo di là della porta socchiusa nel frattempo però siamo volati attraverso una nube di follia e non è meno inquietante veder le vicende normali richiudersi su quel vuoto già colmato e mostrarsi nella loro continuità ma Bonadea non si spicciava e Ulrich dovete pensare a qualcos'altro Walter l'amico d'infanzia questo marito della piccola Clarisse divenuto un po' strano una volta aveva detto di lui Ulrich fa sempre con la massima energia soltanto le cose che non ritiene necessarie mi tornò in mente proprio in quel momento e pensò questo lo si può dire di noi tutti oggi ricordava benissimo la scena un balcone di legno correva intorno alla casetta di campagna Ulrich era ospite dei genitori di Clarisse mancavano pochi giorni alle nozze e Walter era geloso di lui Walter aveva una miracolosa capacità di gelosia Ulrich era fuori al sole quando Clarisse e Walter erano entrati nella stanza che dava sul balcone egli li spiava senza nascondersi del resto non ricordava più che quell'unica frase e poi anche il quadro la profondità ombrosa della stanza appesa come una borsa floscia semiaperta alla vividità assoluta del muro tra le pieghe di quella borsa comparvero Walter e Clarisse la faccia di Walter era dolorosamente allungata e pareva che dovesse avere lunghi denti gialli si potrebbe anche dire che un paio di lunghi denti gialli giacevano in un astuccio di velluto nero e i due vi stavano accanto come spettri la gelosia naturalmente non aveva motivo Ulrich non desiderava affatto le donne dei suoi amici ma Walter aveva sempre avuto una particolare capacità di vivere con veemenza non arrivava mai a quel che voleva perché sentiva troppo intensamente gli sarebbe detto che portasse dentro di sé un amplificatore molto melodico della felicità e infelicità spicciola spendeva sempre piccolissime monetine di sentimento d'oro o d'argento mentre Ulrich operava più in grande con assegni di pensieri per dir così sui quali erano scritte cifre imponenti ma infine non era che carta per raffigurarsi Walter nel modo più caratteristico Ulrich se lo immaginava colicato sul limitale di un bosco lo vedeva in calzoncini corti e chissà perché in calze nere non aveva gambe d'uomo né salde e muscolose né nervose e sottili ma gambe di ragazzo di ragazzo dolce bruttino dalle gambe non belle con le mani intrecciate dietro il capo guardava lontano e non voleva essere disturbato Ulrich non ricordava di aver visto Walter così in una particolare occasione che gli fosse rimasta impressa piuttosto dopo tre lustri l'immagine si era espressa da sé come un suggello conclusivo e ricordare che Walter allora fosse stato tanto geloso di lui gli dava una piacevole eccitazione tutto ciò era accaduto in un tempo in cui si poteva ancora gioire di se stessi e Ulrich pensò sono già andato parecchie volte da loro senza che Walter mi abbia restituito la visita stasera però potrei tornarci che cosa me ne importa si propose di mandarli ad avvisare quando Bonadea avesse finalmente terminato di rivestirsi in sua presenza non era prudente farlo per via del noioso interrogatorio che ne sarebbe inevitabilmente seguito e già che il pensiero è rapido e Bonadea ne aveva ancora per un pezzo fece un'altra riflessione questa volta si trattava di una piccola teoria era semplice chiara e servì a fargli passare il tempo un giovane in fase di attività mentale si disse Ulrich e verosimilmente intendeva ancora il suo amico Walter irradia continuamente idee in tutte le direzioni ma solo quelle che incontrano risonanza nell'ambiente gli vengono rinviate e si consolidano mentre tutte le altre irradiazioni si sparpagliano nello spazio e vanno perdute Ulrich presupponeva senz'altro che un uomo intelligente possieda ogni specie di intelligenza così che l'intelligenza sarebbe più innata che le buone e cattive qualità anche lui era un uomo pieno di contraddizioni e immaginava che tutte le qualità che si siano mai manifestate nelle creature umane stanno schierate abbastanza vicine le une alle altre nel cervello di ogni essere umano posto che sia dotato di cervello forse questo non è del tutto giusto ma ciò che noi sappiamo dell'origine del male e del bene induce piuttosto a pensare che ciascuno ha un proprio intimo numero di grossezza ma che entro quella grossezza può indossare i più diversi vestiti se il destino li ha in salvo per lui e così auguri non parve interamente priva di senso la riflessione orora fatta se infatti nel corso del tempo le idee comuni e impersonali rafforzano da sé e quelle eccezionali si perdono così che ognuno con la precisione di un congegno meccanico diventa sempre più mediocre questo spiega perché nonostante le mille possibilità che ci sarebbero offerte l'uomo comune è appunto un uomo comune e spiega anche come fra i privilegi che si fanno valere ottengono conoscimento vi sia una certa miscela che ha il 51% di profondità e il 40% di leggerezza che è quella che consegue maggior successo e questo già da molto tempo appariva a Ulrich così complicatamente assurdo e così insopportabilmente triste che gli sarebbe piaciuto continuare a meditarci sopra ma fu disturbato dal fatto che Bonadea non dava ancora segno di essere pronta spiando cautamente dal fessolino vide che aveva smesso di vestirsi e la trovava scortese la sua distrazione quando si trattava di gustare le ultime gocce preziose della reciproca presenza offesa da quel silenzio stava in attesa di quello che gli avrebbe fatto intanto aveva preso un libro che per fortuna conteneva belle illustrazioni di storia dell'arte Ulrich riprendendo le sue meditazioni si sentì irritato da questa attesa e a poco a poco fu preso da un'impazienza indefinita 30 Ulrich ho delle voci e all'improvviso i suoi pensieri si concentrarono e come si avesse guardato attraverso un'apertura vide Christian Mosburger il falegname e i suoi giudici in modo penuso e ridicolo per un uomo che non poteva pensarla così il giudice stava dicendo perché si ha pulito le mani insanguinate perché ha gettato via il coltello perché dall'omicidio ha indossato abiti e biancheria puliti perché era domenica o piuttosto perché erano sporchi di sangue perché la sera dopo è andato in un locale da ballo non l'ha trattenuto il pensiero di quel che aveva fatto ha provato o non ha provato rimorso in Mosburger si destra un barlume vecchia esperienza di ieri bisogna fingere rimorso il barlume torce la bocca di Mosburger ed egli afferma ma certo il commissariato ha detto non sento rimorso solo odio e furore fino al parossismo ribatte subito il giudice colarsi dice Mosburger di nuovo molto fermo e signore colarsi che allora non nutrissi altri sentimenti lei è un uomo alto e robusto interviene il procuratore generale come poteva aver paura della Hedwig signor procuratore risponde Mosburger sorridendo essa era diventata carezzevole me l'immaginavo ancora più perfida di quanto stimo di solito le femmine di quel genere io sembro forte e lo sono e dunque pronto la il presidente sfogliando l'incartamento ma in certe situazioni dice Mosburger ad alta voce sono pauroso e addirittura vigliacco gli occhi del presidente scattano su delle carte come due uccelli in un ramo essi abbandonano la frase su cui si erano posati quando si è zuffato coi suoi compagni in cantiere non è stato affatto vigliacco dice il presidente ad uno ha fatto volare due piani e agli altri il coltello signor presidente interruppe Mosburger con voce minacciosa io conservo ancora oggi il mio modo di vedere il presidente fa un segno deprecativo l'ingiustizia dice Mosburger quella dove essere presa a base della mia brutalità da uomo semplice ingenuo mi sono presentato davanti al tribunale pensando che i signori giudici tanto sanno tutto ma sono rimasto deluso la faccia del presidente è di nuovo sprofondata negli atti il procuratore generale sorride e dice amabilmente ma la Hedwig era una ragazza del tutto innocua a me non sembrava tale replica Mosburger ancora arrabbiatissimo a me sembra conclude il presidente accentuando le parole che lei trovi sempre il modo di scaricare la colpa sugli altri dunque perché la coltellata gli comincia da capo gentilmente il procuratore generale a chi dai ragione questo era nell'udienza a cui Ulrich aveva assistito o soltanto nei resoconti che aveva letto se ne ricordava così vivamente come se avesse udito quelle voci in vita sua non aveva mai udito voci per Dio non era il suo genere ma quando si comincia a udirle le cose cala su di noi come la pace di una nevicata a un tratto dalla terra fino al cielo si innalzano pareti dove prima non vera che aria si penetra adesso entro morbide spesse muraglie e tutte le voci che nella gabbia dell'aria saltellavano qua e là passano ora libere attraverso le bianche pareti intimamente concresciute e congiunte certo era sovrecitato dal lavoro e dalla noia e allora possono accadere simili cose ma udire voci non gli dispiaceva improvvisamente disse quasi fra sé si ha una seconda patria in cui tutto ciò che si fa è innocente una dea si dava da fare con una stringa intanto era tornata nella stanza di Ulrich il discorso non le piacque lo trovò indelicato aveva dimenticato il nome dell'assassino di cui i giornali si erano tanto occupati ora mentre Ulrich incominciava a parlare di lui ecco che riemergeva con riluttanza nella sua memoria ma se Mosbrugger disse Ulrich dopo un poco può produrre quella sconcertante impressione di innocenza assai di più lo può produrre quella povera creatura derelitta e infreddolita dagli occhi di topo quella Edwig che gli ha chiesto asilo nella sua stanza e che perciò è stata uccisa da lui lascia stare consigliò Bonadea alzando le candide spalle Ulrich infatti aveva dato questa piega al discorso proprio nel momento malignamente scelto in cui dopo il ritorno in camera le vesti mezzo indossate dall'amica offesa e anelante alla riconciliazione formavano di nuovo sul tappeto il piccolo cratere di spuma deliziosamente mitologico dove emerge Afrodite perciò Bonadea era pronta ad eseclare Mosbrugger e a mettere da parte con un brivido fugace la sua vittima ma Ulrich non lo permise e le dipinse a tatti vigorosi la sorte che attendeva Mosbrugger due uomini gli porranno al collo il capestro senza avere verso di lui alcun sentimento ostile ma solo perché sono pagati per questo un centinaio di persone saranno presenti alcuni per dovere d'ufficio altri perché ciascuno vuole aver assistito almeno una volta nella vita a un'esecuzione capitale un signore solenne in cilindro marsina e guanti neri stringe il cappio e nello stesso tempo i suoi due aiutanti si appendono alle gambe di Mosbrugger perché si spezzi la vertebra cervicale poi il signore inguantato di nero pone la mano sul cuore di Mosbrugger e col viso sollecito di un medico esamina se egli viva ancora perché in caso affermativo si ripete tutta la scena con maggiore impazienza e minore solennità insomma tu sei per Mosbrugger o contro Mosbrugger domandò Ulrich lentamente e dolorosamente come chi ha svegliato anzitempo monadea era uscita dallo stato d'animo come lei soleva chiamare i suoi accessi d'adulterio dovette mettersi a sedere dopo che le sue mani per un poco ebbero sorretto indecise le vesti di scinte e il corpetto slacciato come tutte le donne nelle sue condizioni aveva salda fiducia in un ordine pubblico così equo che ciascuno senza bisogno di preoccuparsene poteva attendere ai propri affari privati ma adesso che era sollecitata al contrario Tolst parteggiò pietosa per Mosbrugger la vittima con esclusione ad ogni pensiero per Mosbrugger il colpevole dunque commentò Ulrich tu sei sempre per la vittima e contro l'azione monadea manifestò l'ovvia opinione che un simile discorso in un simile momento era indelicato ma se il tuo giudizio condanna con tanta coerenza l'azione rispose Ulrich invece di farsi perdonare subito come fai a giustificare i tuoi adulteri monadea soprattutto quel plurale era indelicato monadea attacque si sedette con aria sprezzante su una delle morbide poltrone e fissò offesa la linea d'incontro fra la parete e il soffitto 31 la dimenticata e importantissima storia con la moglie d'un maggiore non è consigliabile sentirsi affine a un pazzo dichiarato e Ulrich infatti se ne guardava bene ma perché un perito sosteneva che Mosbrugger era pazzo e l'altro che non lo era dove avevano preso i clonisti il disinvolto realismo col quale descrivevano il suo lavoro di coltello e quali erano le caratteristiche per cui il caso Mosbrugger destava tanto scalpore e tanto raccapriccio da essere per due milioni di viennesi qualcosa come una lite in famiglia o un fidanzamento rotto turbando gli animi sconvolgendo addormentati recessi dei cuori mentre nelle città di provincia era già una vicenda più indifferente e non era più nulla a Berlino o a Breslavia dove di tanto in tanto avevano anch'essi dei Mosbrugger di casa loro quel terribile gioco della società con le sue vittime dava a Ulrich materia di riflessione lo sentiva ripetuto nella sua persona non vera in lui volontà alcuna né di liberare Mosbrugger né di dar manforte alla giustizia i suoi sentimenti sagricciavano come il pelo di un gatto per qualche ragione ignota Mosbrugger lo concerneva più da vicino che la vita stessa che gli conduceva lo ossessionava come una poesia oscura dove tutto è un po' spostato e stravolto e rivela un senso che fluttua smembrato nel profondo dell'animo romanticismo da gran guignol egli si interruppe ammirare l'orrido l'illecito nella forma permessa di sogni e di nevrosi gli sembrava assai calzante all'umanità dell'epoca borghese out out egli pensò o mi piace o non mi piace o ti difenda in tutta la tua nefandezza oppure dovrai schiaffeggiarmi perché mi trasturlo con essa e infine sarebbe opportuna anche una fredda ma energica compassione si potrebbe far moltissimo al giorno d'oggi per impedire simili fatti e figura se la società volesse impiegarvi essa stessa solo la metà degli sforzi morali che esige da quelle vittime ma c'era sempre un altro lato dal quale considerare l'avvenuto e strani ricordi s'affollarono alla mente di Ulrich il nostro giudizio su un'azione non è mai un giudizio su quell'aspetto dell'azione che Dio compensa o punisce va detto Lutero ed è abbastanza strano probabilmente sotto l'influsso di uno dei mistici che per un certo tempo gli furono amici certo l'avrebbe potuto dire anche qualcun altro credente in senso borghese erano tutti immoralisti facevano distinzioni fra i peccati e l'anima che nonostante i peccati può restare immacolata quasi come Machiavelli fa distinzione fra i mezzi e il fine il cuore umano era loro tolto anche in Cristo c'era un uomo interiore e un uomo esteriore e tutto ciò che egli faceva in rapporto con le cose esteriori lo faceva muovendo dall'uomo esteriore mentre l'uomo interiore assisteva immobile in disparte dice Eckhart santi e credenti siffati sarebbero stati per caso persino capaci di assolvere Mosbrugger indubbiamente l'umanità ha progredito da allora ma se anche condannerà a morte Mosbrugger ha ancora la debolezza di venerare quegli uomini che chissà l'avrebbero assolto e allora preceduta da un'onda di malessere ritornò alla mente di Ulrich una frase la frase era l'anima del sodomita potrebbe camminare ignara in mezzo alla folla e nei suoi occhi starebbe il limpido sorriso di un bimbo perché tutto dipende da un principio invisibile non era molto diversa dalle prime sentenze ma nella sua piccola esagerazione spandeva l'odore malsano e dolciastro della perversità ed evidentemente un luogo si addiceva a quella frase una stanza con libri francesi dalle copertine gialle sparse sui tavoli con tende di perline invece di porte e nel petto sorgeva una sensazione come quando una mano è cacciata in una carcassa sventrata di pollo per estrarne il cuore perché quella frase era stata emessa da Diotima durante la sua visita per giunta proveniva da uno scrittore contemporaneo che Ulrich aveva amato negli anni giovanili ma che poi aveva imparato a giudicare un filosofo da salotto le frasi di quel genere hanno il pessimo sapore di un pane sul quale sia stato versato un profumo così che per decine d'anni non si vorrebbe più sentirne parlare ma per quanto viva fosse questa sua ribugnanza gli sembrò ignominioso essersi astenuto per tutta la vita dal ritornare alle altre alle proposizioni genuine di quel mistico linguaggio aveva infatti per esse una speciale immediata comprensione anzi una familiarità che andava al di là della comprensione senza però che egli si fosse mai potuto decidere a convertirsi interamente a loro emergevano quelle frasi che gli parlavano al cuore con accento fraterno con una indefinibile intimità morbida e oscura opposta al tono imperativo del linguaggio scientifico e matematico e bercevano fra le sue occupazioni come isole non collegate visitate di rado ma osservandole per quel che ne sapeva mi pareva di sentire fra loro un legame come se poco distanti l'uno dall'altra fossero schierate lungo una riva che restava nascosta dietro di loro oppure costituissero i resti di un continente scomparso nella preistoria sentiva la morbidezza del mare delle nebbie e delle basse colline nere che dormono nella luce giallo-grigia si rammentò di una piccola crociera in mare una fuga secondo gli slogan delle agenzie turistiche viaggiate cambiate orizzonti e rivisse chiaramente la strana ridicola e incantata vicenda che con la sua forza terribile si era messa una volta per sempre davanti a tutte le altre simili per un attimo il cuore di un ventenne gli batte nel petto la cui vellosa epidermide col tempo si era fatta più dura e più spessa il battito di un cuore di vent'anni nel suo petto di trentaduenne gli parve il bacio contro natura di un giovinetto a un uomo tuttavia questa volta non eluse il ricordo era il ricordo di una passione stranamente conclusa che egli aveva avuto a vent'anni per una donna la quale per età e soprattutto per il grado della sua esperienza domestica era considerevolmente più vecchia di lui era significativo che gliene ricordasse solo vagamente l'aspetto una fotografia rigida e la memoria delle ore in cui era solo e pensava a lei sostituiva il ricordo diretto del viso degli abiti dei gesti e della voce da allora quel mondo gli era divenuto così estraneo che rammentando come ella fosse moglie di un maggiore si sentì pieno di esilerata incredulità adesso sarà da un pezzo la moglie di un colonnello a riposo pensò al reggimento si diceva che fosse un artista una pianista provetta ma per desiderio della famiglia non sarà mai prodotta in pubblico e più tardi poi il suo matrimonio aveva reso la cosa ancora più impossibile infatti nelle feste del reggimento suonava il piano molto bene aureolata dal sole d'oro che splende sugli abissi della sensibilità e fin da principio Ulrich sarà innamorato meno della presenza fisica di quella donna che del pensiero di lei il tenente che egli era allora non aveva timidezza il suo occhio sarà già esercitato su donnette da poco e aveva anche scoperto il furtivo sentiero che conduceva a qualche donna onesta ma per quegli ufficiali di vent'anni il grande amore quando ne sentivano l'esigenza era qualcos'altro era un'astrazione era fuori dell'ambito delle loro imprese ed era così povero di esperienze vissute e appunto perciò così fascinosamente vuoto come possono essere soltanto gli altissimi concetti sicché quando Ulrich per la prima volta in vita sua intravide la possibilità di applicare quel concetto la cosa fu inevitabile e alla signora del maggiore toccò una parte non dissimile da quella della causa ultima che scatena una malattia Ulrich s'ammalò d'amore e poiché l'autentico mal d'amore non è bisogno di possesso ma un blando rivelarsi del mondo per il quale si rinunzia volentieri al possesso dell'amata il tenente descrisse il mondo alla moglie del maggiore in una maniera insolita e penetrante che la era completamente nuova costellazioni batteri balzacche e nicce turbinarono in un vortice di pensieri in cui apice la concrescente chiarezza intuiva puntato su certe differenze secondo la moda del tempo ignorate dalla costumatezza che distinguevano il suo corpo dal corpo del tenente quel rapporto incalzante dell'amore con questioni che fino allora per lei con l'amore non avevano avuto niente da fare la sconcertò durante una cavalcata mentre camminavano tenendo per la briglia i loro cavalli abbandonò a Ulrich per un attimo la sua mano e si avvide con terrore che la mano rimaneva come sfinita in quella di lui non era passato un istante e già dai loro polsi fino alle ginocchia divampava l'incendio e la folgore li abbattè entrambi così che per poco non caddero sul ciglio della strada dove invece si trovarono a sedere sul muschio si basarono appassionatamente e infine furono presi da un grave imbarazzo perché l'amore era così grande e straordinario che con loro sorpresa non venne loro in mente di dire e di fare niente di diverso da quel che è consueto in simili casi i cavalli che si spazientivano liberarono infine i due innamorati da quella situazione l'amore della moglie del maggiore per il giovane tenente ebbe uno svolgimento breve e irreale entrambi erano stupefatti si strinsero ancora qualche volta l'uno all'altro furono consapevoli entrambi che c'era qualcosa che non andava e che nei loro abbracci non avrebbe consentito la comunione dei corpi neanche se si fossero liberati di tutti gli impedimenti del bestiario e della morale la signora non voleva sottrarsi a una passione su cui si sentiva incapace di giudizio ma in lei palpitavano segreti rimorsi per il marito e per la differenza d'età e quando Ulrich un giorno la informò adducendo motivi magri e inventati che partiva per una lunga licenza ella fra le lacrime respirò di sollievo Ulrich però fin da allora non aveva altro desiderio che di andarsene a forza dell'amore nel più lontano possibile dalla sorgente di quell'amore partì a rotta di collo e si fermò solo dove la riva ad un mare metteva fine alla linea ferroviaria si fece ancora traghettare in barca alla prima isola che vide e lì rimase in un luogo ignoto e casuale male alloggiato e male nutrito e fin dalla prima notte scrisse all'amata la prima lettera di una lunga serie che non venne mai spedita quelle lettere scritte nel silenzio notturno che gli riempivano la mente anche di giorno egli le aveva poi smarrite e infatti era il loro destino in principio vi aveva messo ancora molto del suo amore e pensieri d'ogni sorta che l'amore gli ispirava ma presto il paesaggio cominciò a prenderne il posto al mattino il sole lo scuoteva dal sonno e quando i pescatori erano in mare le donne e i bambini dentro le case lui è un asino pascolante i cespugli e i dossi pietrosi tra le due piccole borgate dell'isola parevano essere i soli organismi superiori viventi su quell'estremo lembo di terra urric faceva come il suo compagno e saliva su uno di quei massi oppure si coricava sulla riva dell'isola in compagnia del mare degli scogli e del cielo e questa non è la presunzione perché la diversità di grandezza non esisteva più come d'altronde scompariva in quella convivenza anche la distinzione fra lo spirito la natura animale e quella morta e si attenuava ogni differenza fra cosa e cosa diciamo obiettivamente che le differenze forse non erano né attenuate né scomparse ma che avevano perduto ogni significato non si era più assoggettati alle scissioni dell'umano come viene descritto da quei credenti invasi dalla mistica dell'amore dei quali il giovane tenente di cavalleria non sapeva allora un bel nulla Ulrich non meditava neppure su quei fenomeni come talvolta al modo di un cacciatore sulla traccia della selvaggina si suole stanare un'osservazione e braccarlo col pensiero anzi non li percepiva affatto soltanto li accoglieva in sé si inabissava nel paesaggio e nello stesso tempo ne era inesplicabilmente sorretto e quando la vista del mondo lo sopraffaceva il suo significato rifluiva dentro di lui in ondate silenziosa era penetrato nel cuore del mondo la distanza fra lui e l'amata lontana era come di lì all'albero più vicino il sentimento intimo legava gli esseri sopprimendo lo spazio così come in sogno due esseri possono passare l'uno attraverso l'altro senza mescolarsi e trasformava tutti i loro rapporti ma quello stato non aveva null'altro in comune col sogno era chiaro e popolato di chiari pensieri pure nulla in esso si agitava secondo causa scopo e desiderio fisico ma tutto si allargava in cerchi sempre rinnovati come quando un getto senza fine cade in una vasca d'acqua questo appunto è null'altro egli descriveva nelle sue lettere era un aspetto della vita interamente mutato non più posto nel punto focale della solita attenzione non più aspro e netto ma visto così piuttosto un po' indistinto sfumato eppure altri centri l'avrebbero di nuovo riempito di sicurezza e di chiarezza perché tutti i problemi e gli avvenimenti della vita assumevano un'incomparabile mitezza calma d'uttilità e nello stesso tempo un tutt'altro significato se ad esempio un insetto correva sulla mano del pensatore quello non era un avvicinarsi passare allontanarsi e non si trattava di insetto ed uomo ma di un avvenimento che commuoveva il cuore indescrivibilmente anzi nemmeno di un avvenimento che pure avveniva ma di uno stato e con l'aiuto di quelle tranquille esperienze tutto ciò che costituisce la vita consueta acquistava un senso del tutto diverso anche il suo amore per la moglie del maggiore prese rapidamente la forma predestinata qualche volta egli cercava di immaginare la donna alla quale pensava incessantemente e di vederla intenta alle sue occupazioni cosa che gli era facilitata dalla precisa conoscenza del suo sistema di vita ma quando ci riusciva e l'amata gli compariva dinanzi ecco che il suo sentimento divenuto così chiaroveggente improvvisamente si offuscava ed egli doveva sforzarsi di ridurre in fretta l'immagine di lei alla beata certezza in qualche luogo e la esiste per me non passò molto tempo ed ella era ormai un impersonale centro di forza la dinamo ingolfata del suo impianto di illuminazione egli le scrisse un'ultima lettera in cui le spiegava che la grande vita d'amore in fondo non ha nulla a che fare col possesso e col desiderio che sia mia che appartengono alla sfera del risparmio dell'appropriazione e della voracità un'unica lettera che egli mandò e segnò all'incirca il vertice del suo mal d'amore seguito ben presto dal declino e dalla fine improvvisa 32 rottura con Bonadea intanto Bonadea non potendo seguitare a guardare il soffitto si era straiata supina sul divano il suo tenero ventre materno respirava sotto la batista bianca libero dal busto e dagli altri impacci lei chiamava quella posizione meditare e ballenò alla mente che suo marito non era solamente giudice ma anche cacciatore e che ogni tanto parlava con occhi scintillanti della belva che insegue la preda le parve che ne dovesse risultare qualcosa a favore di Mosbrugger come pure dei suoi giudici d'altra parte non desiderava che l'amante facesse torto al marito tranne sul punto dell'amore il suo senso della famiglia esigeva che il capo della casa fosse stimato e rispettato perciò non seppe prendere una decisione e mentre questo dilemma come due cortei di nuvole che mostruosamente si confondono oscurava il suo orizzonte Ulrich si godeva la libertà di inseguire i propri pensieri la cosa durava da un poco e Bonadea non avendo escogitato nulla che potesse risolvere la questione ricominciò a crucciarsi perché Ulrich l'aveva offesa e il tempo che egli aveva lasciato trascorrere senza accomodare le cose le diede un senso di turbamento e di oppressione allora secondo te faccio male a venire qui si era decisa infine a rivolgersi in tono lento ed enfatico quella domanda con tristezza ma con fiera volontà di dar battaglia Ulrich tacque alzò le spalle non sapeva nemmeno più di che cosa ella parlasse ma in quel momento la trovò insopportabile saresti davvero capace di rimproverare me per il nostro amore ti sono più risposte a una simile domanda che api in un alveare replicò Ulrich e a ciascuna è disgustosamente attaccato tutto il disordine psichico dell'umanità con i suoi problemi mai risolti con ciò diceva semplicemente quel che aveva già pensato e ripensato quel giorno ma buona dea riferì a se stessa il disordine psichico e trovò che era veramente troppo avrebbe volentia ritirato di nuovo le tende per comporre in tal modo il dissidio ma altrettanto volentieri sarebbe scoppiata in dolorosi singhiozzi e a un tratto le sembrò di capire che Ulrich s'era stancato di lei grazie al suo temperamento fino allora ella aveva perduto i suoi amanti così come attratti da un oggetto nuovo si sposta a un oggetto vecchio e lo si perde di vista oppure si era da loro divisa tanto in fretta quanto prima si era unita il che a parte la personale indignazione aveva pur sempre il carattere di una forza superiore la sua prima sensazione davanti alla tranquilla resistenza di Ulrich fu di essere diventata vecchia ebbe vergogna di trovarsi smarrita e seminuda su un sofà esposta a tutte le offese senza riflettere si levò su e afferrò i suoi vestiti ma il fruscio dei calici di seta in cui ella si ringuainava non indusse Ulrich al pentimento il dolore lancinante dell'impotenza oscurò gli occhi di Bonadea il brutale mia ferita con intenzione e la ripeteva a se stessa poi rilevò non si muove e ad ogni nastro che legava ad ogni gancio che agganciava sprofondava più giù nel nero abisso di quel dolore infantile da tanto tempo dimenticato l'abbandono si faceva buio all'intorno il volto di Ulrich si vedeva come in un'ultima luce duro e brutale vinceva l'oscurità del dolore come ho potuto amare quel volto si chiese Bonadea ma in pari tempo la frase perduto per sempre le lacerò il cuore Ulrich che indovinava la sua decisione di non tornare più non fece nulla per impedirlo con gesti vigorosi Bonadea si ravviò i capelli davanti allo specchio poi si mise il cappello e appuntò il velo adesso che il velo copriva il viso era tutto finito un momento solenne come una condanna a morte o lo scattare della serratura d'un baule egli non avrebbe mai più baciata e non immaginava che stava perdendo l'ultima occasione di poterlo fare e la sentì tanta compassione per lui che per un poco non gli si gettò il collo sfogandosi in un gran pianto 33 un raggiardente e pareti fredde quando Ulrich dopo aver accompagnato giù Bonadea rimase di nuovo solo non aveva più voglia di lavorare volle uscire con l'idea di mandare due righe a Walter e Clarisse per annunziare la sua visita serale mentre attraversava il piccolo vestibolo osservò alla parete un'impalcatura di corna di cervo che gli ricordò il movimento di Bonadea mentre davanti allo specchio si legava il velo senza però quel suo vago sorriso di rinuncia egli si guardò intorno esaminando l'ambiente tutte quelle linee tondeggianti incrociate dritte arcuate e intrecciate che costituiscono l'arredamento di un'abitazione e che gli si erano ammucchiate d'intorno non erano né natura né intrinseca necessità al contrario erano gonfie fino all'estremo di esuberante barocchismo il sangue il battito che anima costantemente le cose che ci circondano sarà per un istante fermato io sono soltanto fortuita sogghignava la necessità in sostanza a considerarmi senza pregiudizi non sono diversa dal viso di un malato di lupus confessava la bellezza non ci voleva molto infatti una vernice si era scrostata una suggestione si era sciolta una corrente di abitudine speranza tensione si era interrotta un equilibrio segreto e fluido tra il sentimento e il mondo era stato per un istante turbato tutto ciò che si sente e si fa accade comunque sia in direzione della vita il più piccolo movimento in un'altra direzione è difficile o inquietante così anche quando semplicemente si cammina si solleva il punto di gravità lo si porta in avanti e lo si lascia cadere ma basta un piccolissimo mutamento un lieve timore o anche soltanto stupore di quel lasciarsi cadere nel futuro e non si sta più ritti meglio non pensarci e Ulrich ricordò che tutti i momenti cruciali della sua vita avevano lasciato dietro di sé un'analoga sensazione fece cenno a un fattorino e gli consegnò il suo scritto erano circa le 4 del pomeriggio ed egli decise di far lentamente la strada a piedi la giornata primaverile d'autunno gli dava un senso di beatitudine l'aria era come un lievito i vigi dei passanti erano come spuma galleggiante sull'acqua dopo il monotono lavorio dei suoi pensieri negli ultimi giorni gli sembrava di essere uscito da una prigione e di giacere mollemente in un bagno si sforzò di prendere un'andatura cordiale e flessibile in un corpo educato dagli esercizi zinnici aveva una prontezza al movimento e alla lotta che oggi gli ripugnava come la faccia di un vecchio guitto piena di finte passioni mille volte rappresentate nello stesso modo la sete di verità aveva riempito il suo animo di moti e di fermenti spirituali l'aveva suddiviso in gruppi di pensieri manovrati gli uni contro gli altri e a voler essere severi gli aveva dato l'espressione falsa estrionica che tutto persino la sincerità assume nel momento in cui diventa abitudine così pensava Ulrich scorreva come un'onda con le onde sorelle se così si può dire e che cosa c'è di male se un uomo stanco di lavorare in solitudine rientra nella comunità e sente la gioia di scorrere nella stessa direzione degli altri in un momento simile nulla è lontano come l'idea che la vita che essi conducono e che li conduce non significa granché e non concerne intimamente gli uomini eppure ogni uomo finché è giovane ne è conscio Ulrich ricordava che cosa erano state per lui certe giornate simili in quelle stesse strade dieci o quindici anni prima allora tutto era due volte più bello e tuttavia c'era in quel bollente desiderio il tormentoso presagio della prossima prigionia una sensazione inquietante tutto ciò che io credo di raggiungere mi raggiunge il sospetto torturante che a questo mondo le manifestazioni insincere sbanate e trascurabili hanno maggior risonanza di quelle intrinseche e personali questa bellezza si pensa si va bene ma poi è la mia questa verità che sto scoprendo è davvero la mia verità gli scopi le voci la realtà tutte queste cose seducenti che allettano e guidano che noi seguiamo in cui ci buttiamo sono la verità o invece non se ne coglie che un soffio inafferrabile posatosi sulla realtà ciò che la diffidenza sa fiutare e sentire sono le preordinate forme e suddivisioni della vita la sua identità già prefigurata da generazioni l'idioma fatto e finito non solo della lingua ma anche delle impressioni e dei sentimenti Ulrich si era fermato davanti a una chiesa dio del cielo se lì all'ombra fosse seduta una matrona colossale con una gran pancia cascante a gradini la schiena adossata ai muri delle case e sopra sulle mille rughe su pustolette e verruche il sole del tramonto che splende in faccia non avrebbe potuto trovare che era altrettanto bello o cielo com'era bello davvero non vogliamo affatto sottrarci al dovere di ammirare che c'è stato imposto nel venire al mondo ma ripetiamo non sarebbe impossibile trovare belle le ampie forme tranquillamente cascanti e la filigrana di rughe di una veneranda matrona però è più semplice dire che è vecchia e questo passaggio dal trovare vecchio al trovare bello è quasi uguale al passaggio dalla mentalità dei giovani alla morale superiore degli adulti e per molto tempo è un ridicolo soggetto di insegnamento finché a un tratto non ci si accorge di possederla Ulrich si fermò davanti alla chiesa solo pochi secondi ma essi si allargarono in profondità premendogli sul cuore con tutta la resistenza atavica che si sente istintivamente contro quel mondo pietrificato dal peso immane contro quella ghiacciante paesaggio lunare del sentimento dove siamo posti senza nostro volere forse per la maggior parte degli uomini è una comodità è un vantaggio trovare il mondo belle pronto eccetto due o tre piccoli particolari personali e non si può mettere in dubbio che la conservazione non è soltanto conservatrice ma è anche fondamento di tutti i progressi e di tutte le rivoluzioni benché non si possa tacere il profondo spettrale disagio che ne deriva a tutti coloro che vivono facendo fuoco della propria legna mentre contemplava con pieno consenso la bellezza architettonica del sacro edificio Ulrich fu nettamente cosciente che era altrettanto facile mangiare carne umana come costruire o lasciare sussistere simili monumenti le case accanto la volta del cielo al di sopra insomma un'armonia inesprimibile di tutte le linee e gli spazi che avvolgevano e guidavano lo sguardo l'aspetto e l'espressione della gente che passava di lì i loro libri e la loro morale gli alberi della strada tutto ciò può essere a volte rigido come un paravento e duro come il punzone di una pressa e così non saprei dire altro che perfetto così perfetto e rifinito che io lì accanto non sono che inutile nebbia un fiato un respiro di cui Dio non ha cura in quel momento Ulrich non chiedeva di meglio che essere un uomo senza qualità ma in genere per nessuno la cosa è molto diversa negli anni della maturità pochi uomini sanno in fondo come sono giunti a se stessi ai propri piaceri alla propria concezione del mondo alla propria moglie al proprio carattere e mestiere e loro conseguenze ma sentono di non poter più cambiare di molto si potrebbe sostenere persino che sono stati ingannati infatti è impossibile scoprire una ragione sufficiente per cui tutto sia andato proprio così come è andato sarebbe anche potuto andare diversamente essi hanno influito pochissimo sugli avvenimenti che per lo più sono dipesi da circostanze svariate dell'umore dalla vita dalla morte di tutt'altri individui e solo in quel dato momento si sono abbattuti su di loro quando erano giovani la vita si stendeva loro dinanzi come un mattino senza fine colmo di possibilità e di nulla e già almeriggio ecco giungere all'improvviso qualcosa che pretende di essere ormai la loro vita e tutto ciò è così sorprendente come vedersi davanti tutta un tratto una persona con la quale siamo stati vent'anni in corrispondenza senza conoscerla e ce la siamo immaginata completamente diversa ancora più strano però che quasi nessuno se ne accorga adottano la persona che è venuta a loro la cui vita si è incorporata alla loro vita giudicano le sue vicende ed esperienze ormai come le espressioni delle loro qualità e il suo destino diventa merito o disgrazia loro qualcosa è agito nei loro confronti come la carta moschicida nei confronti di una mosca qui ha imprigionato un peluzzo l'ha bloccato un movimento e a poco a poco li ha avviluppati finché sono sepolti in un involucro spesso che corrisponde solo vagamente alla loro forma originale e non hanno più che un ricordo confuso della giovinezza quando c'era in loro qualcosa come una forza opposta quest'altra forza tira e frulla e non vuol mai sostare e turbina in tentativi di fuga senza scopo i sarcasmi della gioventù la sua ribellione contro l'ordine la sua tendenza a tutto ciò che è eroico all'obbligazione e al delitto la sua gravità ardente e la sua incostanza tutti questi non sono che tentativi di fuga in fondo quei tentativi vogliono dire soltanto che nulla di ciò che il giovane intraprende appare univoco e dettato da un'esigenza intima anche se lo manifestano in modo da far credere che tutte le imprese in cui egli si getta siano assolutamente improrogabili e necessarie qualcuno inventa un bel gesto nuovo interiore o esteriore come chiamarlo un gesto vitale una forma in cui il sentimento intimo fluisce come il gas in un pallone un'espressione della pressione interna una tecnica dell'essere può trattarsi di una nuova moda di baffio di un pensiero nuovo un fatto teatrale ma come tutti i fatti teatrali ha naturalmente un senso e tosto le anime giovani vi piombano sopra come i passeri dai tetti quando si offre loro il mangime basta immaginarselo quando fuori un mondo opprimente grava sulla lingua sulle mani e sugli occhi un gelido paesaggio lunare di terra case costumi immagini e libri e dentro non ve altro che una nebbia mobile e fluttuante quale felicità deve essere se qualcuno vi mette davanti un'espressione in cui si crede di riconoscere se stessi non è naturalissimo se l'uomo appassionato si impadronisca di questa nuova forma ancora prima degli uomini comuni essa gli dona il momento dell'essere dell'equilibrio di tensione tra l'interno e l'esterno tra l'essere schiacciato e il dissolversi solo da questo dipende pensò Ulrich ed è ovvio che la cosa toccava personalmente anche lui teneva le mani in tasca e aveva sul viso una felicità assorta e sonnolenta come se nei turbinanti raggi del sole stesse dolcemente morendo assiderato solo da questo dipende il fenomeno sempre ripetuto che si chiama nuova generazione padri e figli rivoluzione spirituale cambiamento di stile sviluppo moda e rinnovamento cioè ciò che di questa smania di rinnovare l'esistenza fa un moto perpetuo è semplicemente il guaio che tra il nostro io nebuloso e l'io dei predecessori ormai consolidato in una forma estranea si inserisce un gruppo di anime che si adatta più o meno e a ben guardare si può sempre scorgere nell'ultimo avvenire appena avverato il futuro tempo antico le idee moderne sono poi soltanto di 30 anni più vecchie ma appagate un po' ingrossate o sciupate così come accanto al viso sfavillante di una fanciulla si scorge quello spento della madre oppure non hanno avuto successo sono consunte e raggrinzite ridotte a un progetto di riforma sostenuto da un vecchio matto che i suoi 50 ammiratori chiamano il grande tal dei tali si fermò di nuovo questa volta in una piazza dove riconobbe alcune case e ricordò le lotte le polemiche le vivaci manifestazioni che avevano accompagnato il loro sorgere pensò agli amici di gioventù erano stati i suoi amici di gioventù che gli riconoscesse personalmente o soltanto di nome che avessero la sua età o fossero più vecchi tutti i ribelli che volevano mettere al mondo cose e uomini nuovi qui o in tutti gli altri luoghi dove era vissuto adesso quelle case come buone zie dai cappelli fuori moda stavano lì nella luce pomeridiana che incominciava già a impallidire tanto care e senza importanza e niente affatto eccitanti muovevano al sorriso ma coloro che avevano lasciato dietro di sé quei resti ormai senza pretesa erano diventati intanto professori celebrità e nomi una parte notoria del notorio progresso per un cammino più o meno lungo erano giunti dallo stato nebuloso allo stato solido e perciò la storia nella descrizione del loro secolo dirà un giorno notati fra i presenti il direttore Leo Fischel è il principio della causa insufficiente in quel momento Ulrich fu interrotto da un conoscente che lo fermò e attaccò discorso questo conoscente aprendo la sua borsa di documenti quel giorno stesso prima di uscire di casa vi aveva trovato con sgradita sorpresa una circolare del conte Leinsdorf alla quale già da un pezzo aveva dimenticato di rispondere perché il suo sano senso pratico ripugnava le iniziative patriottiche promosse in alto loco quest'affare mi puzza aveva detto fra sé quando l'aveva ricevuta non era di certo il giudizio che ne avrebbe dato in pubblico ma vedi com'è fatta la memoria umana la sua gli aveva giocato un brutto tiro regolandosi secondo la prima reazione sentimentale privata e lasciando cadere negligentemente la cosa invece di aspettare una decisione ben ponderata ed ecco che egli riaprendo quella circolare ritrovò qualcosa che gli diede un gran fastidio sebbene prima non ci avesse badato affatto in fondo non era che un'espressione due parolette che ricorrevano parecchie volte nell'epistola ma quelle due parole erano costate all'imponente signore con la sua borsa in mano parecchi minuti di perplessità prima di infilare l'uscio e suonavano il vero o la vera il direttore fisher era questo il suo nome leo fisher direttore della Lloyd Bank cioè per essere precisi procuratore col titolo di direttore Ulrich più giovane poteva dirsi il suo buon amico da anni e nell'ultimo soggiorno a Vienna aveva stretto amicizia anche con la di lui figlia Gerda ma dopo il definitivo ritorno l'aveva visitata una sola volta il direttore fisher conosceva sua signoria come un uomo che faceva lavorare il proprio denaro e manteneva il passo con i metodi moderni sicché lo valutava come si disse in linguaggio commerciale riandando le registrazioni della propria memoria uomo di grande importanza poiché la Lloyd Bank era uno di quegli istituti ai quali il conte Leinsdorf faceva eseguire le sue operazioni di borsa Leo Fischel era dunque costernato dell'indifferenza con cui aveva accolto il patetico invito rivolto da sua signoria a un'eletta schiera di uomini affinché si tenessero pronti per una grande opera concorde veramente lui era stato incluso nella schiera solo per circostanze particolari che saranno spiegate in seguito ma insomma questa era la ragione per cui appena visto Ulrich gli si precipitò incontro aveva sentito dire che Ulrich era nel movimento e per di più vi occupava un posto di preminenza una di quelle incomprensibili ma non rare diffusioni di voci che colpiscono nel giusto ancora prima che sia giusto e gli puntò al petto come una pistola le tre domande che cosa si intende per il vero amor di patria il vero progresso la vera Austria Ulrich svegliato di soprassalto dalla sua fantasticheria e tuttavia continuandola rispose nel tono che usava sempre con Fischel PD C.I. Leo Fischel ripeté compitando senza pensare questa volta a uno scherzo perché tali abbreviazioni pur non essendo allora frequenti come oggi erano già familiari grazie ai cartelli e alle leghe e ispiravano fiducia ma poi soggiunse per favore non faccia dello spirito ho fretta devo correre a una seduta il principio della causa è insufficiente spiegò Ulrich lei si diletta di filosofia e saprà che cosa si intende per principio della causa sufficiente solo per se stesso l'uomo fa un'eccezione nella nostra vita reale cioè personale e nella nostra vita pubblico storica succede sempre quello che in fondo non ha una causa ragionevole E.O.Fischel non sapeva se ribattere o no il direttore della Lloyd Bank amava filosofare si trovavano ancora tipi del genere fra i professionisti ma aveva fretta sul serio perciò disse lei non mi vuol capire so che cos'è il progresso so che cos'è l'Austria e probabilmente so anche che cos'è il patriottismo ma forse non riesco a capire esattamente che cosa siano il vero patriottismo la vera Austria e il vero progresso questo le chiedo va bene sa che cos'è un enzima o un catalizzatore Leo Fischel si limitò a fare un gesto elusivo nell'uno dell'altro cooperano materialmente ma mettono in moto il processo la storia le avrà insegnato che la vera fede la vera morale la vera filosofia non sono mai esistite tuttavia le guerre le infamie e gli odi che si sono scatenati in loro nome hanno fruttuosamente trasformato il mondo un'altra volta protestò Fischel e cercò di fare l'ingenuo senta mi interessa soltanto per via della borsa perché vorrei proprio sapere le intenzioni del conte Leinsdorf a che cosa mira con l'aggettivo vero le giuro replicò Ulrich gravemente che né io né nessun altro sappiamo che cosa voglia dire la vera o il vero ma le posso assicurare che presto saranno tradotti in realtà lei è un cinico dichiarò il direttore Fischel e scappò via ma fatti due passi si voltò e si corresse lo dicevo a Gerda l'altro giorno che lei sarebbe stato un diplomatico di primo ordine spero che verrà a trovarci grazie al summentovato principio lezione parallela ha un'esistenza tangibile prima che si sappia che cosa è il direttore leo Fischel della Lloyd Bank credeva nel progresso come tutti i direttori di banca prima della guerra esperto nel suo ramo sapeva naturalmente che solo nel campo che si conosce a menadito è possibile avere una convinzione sulla quale si è pronti a puntare forte il mostruoso allargamento delle attività umane non permette di formarsela altrove perciò la gente capace e alacre non ha eccetto nel campo di sua competenza nessun convincimento che non sia pronta a sacrificare alla prima pressione si potrebbe dire senz'altro che la coscienza obbliga quelle persone ad agire oppostamente a quel che pensano per esempio le espressioni vero patriottismo e vera Austria al direttore Fischel non dicevano proprio nulla del vero progresso invece aveva un'opinione personale che non era certamente quella del conte Leinsdorf logorato da pollizze e cambiali e tutto il resto che aveva sotto di sé una volta alla settimana una poltrona all'opera per tutta ricreazione egli credeva nel progresso generale che in qualche modo doveva somigliare al progressivo sviluppo della sua banca ma quando il conte Leinsdorf asserì di saperla più lunga anche su questo punto e incominciò ad agire sulla coscienza di Leo Fischel questi sentì che non si può mai sapere fuorché per cambiarli e pollizze e poiché appunto non si sa ma d'altra parte non si vorrebbe sbagliare si prefisse di chiedere incidentalmente al suo direttore generale che cosa pensasse della faccenda quando lo fece il direttore generale aveva già parlato della cosa per motivi assai simili col governatore della banca di stato ed era informatissimo perché non soltanto il direttore generale della Lloyd Bank ma soprattutto anche il governatore della banca di stato aveva ricevuto l'invito del conte Leinsdorf e Leo Fischel che era soltanto direttore di una filiale doveva il suo alle relazioni di famiglia della sua consorte che apparteneva all'alta burocrazia e non lo dimenticava mai né nei rapporti mondani né nei litigi domestici perciò Leo parlando dell'azione parallela col suo superiore si accontentò da accennare col capo significativamente il che voleva dire una cosa grande ma avrebbe anche potuto voler dire una cosa sospetta male non ne poteva fare ma per via di sua moglie Fischel si sarebbe divertito di più se la cosa si fosse rivelata una sciocchezza per il momento però il governatore von Mayer Ballot interrogato dal direttore generale si dichiarò molto favorevolmente impressionato quando lesse l'iniziativa del conte Leinsdorf andò allo specchio cosa abbastanza naturale sebbene non necessaria e contemplò al di sopra del flac con decorazioni la faccia come si deve di un ministro borghese in cui della durezza del denaro c'era appena una traccia in fondo agli occhi le sue dita penzolavano dalle mani come bandiere quando non c'è vento e mai si sarebbe detto che avessero compiuto in vita loro i febbrili movimenti di un apprendista contabile quel grande finanziere super selezionato che non aveva quasi più nulla da fare con la canea selvaggia e affamata dei giochi di borsa vedeva davanti a sé possibilità vaghe ma piacevolmente temperate e la sera stessa ebbe occasione di confermarsi in quell'idea conversando al club degli industriali con gli ex ministri von Holzkopf e il barone Wisniewski questi due signori erano uomini distinti informati e discreti con alte cariche date loro per toglierseli dai piedi quando del breve gabinetto di transizione fra due crisi politiche di cui avevano fatto parte non c'era più stato bisogno tente che aveva passato la vita al servizio dello stato e della corona senza farsi avanti a meno che il loro augusto sovrano non lo comandasse avevano inteso dire che la grande azione sarebbe stata fornita da una piccola punta rivolta contro la Germania erano convinti prima e dopo il fallimento del loro ministero che i deploreboli fenomer per cui la vita politica della doppia monarchia era diventata un focolaio di infezione per l'Europa fossero estremamente complessi ma così come si erano sentiti in dovere di considerare risolvibili di tali difficoltà quando ne avevano ricevuto l'ordine non volevano adesso escludere che con i mezzi suggeriti dal conte Leinstorf si potesse ottenere qualcosa particolarmente riconoscevano che una colonna militare una splendida manifestazione di vita una possente affermazione verso l'estero che raddrizzerà la situazione anche all'interno erano desideri così giustamente formulati dal conte Leinstorf che era impossibile non aderirvi come a dire alzi la mano chi vuole il bene tuttavia non è escluso che Holzkopf e Wisniewski uomini competenti ed esperti dei pubblici affari avessero avuto qualche esitazione tanto più che potevano supporre di essere chiamati a sostenere una parte nell'ulteriore sviluppo di quell'azione ma è facile per gli uomini del piano terreno prendere un atteggiamento critico e respingere quel che non approvano quando invece la navicella della vita naviga a 3000 metri d'altezza non si può scendere senz'altro anche se non si è d'accordo in tutto e poiché in tali ambienti si è davvero leali e diversamente dalla suddetta folla borghese non si ama agire in contrasto con il proprio pensiero occorre in molti casi accontentarsi di non pensar troppo il governatore von Mayer Ballot fu quindi ancora rafforzato nella sua buona impressione dalle delucidazioni dei due signori e quantunque per natura e per mestiere fosse incline a una certa cautela quello che udì bastò a convincerlo che si trattava di una faccenda ai cui prossimi sviluppi era bene essere presenti pur con qualche riserva intanto però l'azione parallela per dir la verità non esisteva ancora e nemmeno il conte Lansdorf sapeva in che cosa sarebbe consistita l'unica cosa precisa che aveva escogitato fino a quel momento era una lista di nomi ma non era poco perché fin da allora senza che nessuno ne avesse la reale impressione esisteva già una rete di disponibilità che allacciava un grande insieme e questo è senz'altro il sistema giusto da che prima si dovettero inventare il coltello e la forchetta e poi l'umanità imparò a mangiare correttamente così spiegava il conte Lansdorf l'anno austriaco procura gravi fastidi al conte Lansdorf sua signoria vuole Ulrich a tutti i costi Lansdorf aveva mandato in ogni direzione a sollecitare il pensiero ma forse non avrebbe avuto nessun successo se un autorevole pubblicitario non si fosse affrettato a stampare sul giornale due grandi articoli in cui esponeva come proprio suggerimento quell'iniziativa di cui sospettava la formazione non sapeva granché come l'avrebbe saputo ma nessuno se ne accorse fu proprio quell'ignoranza che gli ispirò parole irresistibili fu lui l'inventore dell'espressione l'anno austriaco intorno a cui scrisse le sue colonne senza sapere che cosa intendesse dire ma con fragi sempre nuove così che quelle parole si unirono con altre parole e si propagarono con un entusiasmo prodigioso sulle prime ma ha torto la frase l'anno austriaco cos'è il genio giornalistico perché l'istinto giusto aveva coniato quell'espressione essa faceva vibrare corde che alle parole il secolo austriaco sarebbero rimaste mute perché sia così è assai difficile dire forse l'immaginosità e l'imprecisione che distrae il pensiero dalla realtà dava ali non soltanto al sentimento del conte l'einsdorf l'imprecisione infatti ha il potere di elevare e di ingrandire a quanto pare il brav'uomo pratico e realista non ama affatto la realtà e non la prende sul serio da bambino si caccia sotto il tavolo quando i genitori non sono in casa per dare alla stanza con quel trucco semplice e geniale un'atmosfera avventurosa da ragazzo si strugge di possedere un orologio d'oro da giovanotto sogna una donna assortita all'orologio con orologio e donna sogna una posizione elevata e quando è felicemente venuto a capo di questo piccolo cerchio di desideri e vi oscilla dentro tranquillo come un pendolo si direbbe che la sua riserva di sogni inappagati non sia diminuita per niente infatti quando vuole uscire dalla realtà quotidiana adopera una similitudine siccome la neve qualche volta lo infastidisce la paragona a candidi seni femminili e appena i seni di sua moglie incominciano ad annoiarlo li paragona a candida neve sarebbe spaventatissimo se i capezzoli le si trasformassero a un tratto in becchi di colombe o in coralli incastonati ma la similitudine poetica lo inuzzolisce è capace di mutare ogni cosa in qualunque altra cosa la neve in epidermide l'epidermide in fiori di mandorlo i fiori di mandorlo in zucchero lo zucchero in cipria e la cipria da capo in neve perché l'unica sua preoccupazione è di trasformare una cosa in un'altra cosa che non è e questo dimostra che egli non può resistere a lungo in nessun luogo dove si trova soprattutto poi nessun vero cacanese riusciva a starsene per un pezzo col cuore in cacania se gli avessero mai imposto un secolo austriaco mi sarebbe sembrato un castigo infernale a quelli chiedessero di sottomettere sé e il mondo con un ridicolo sforzo volontario tutt'altra cosa invece era un anno austriaco questo voleva dire dimostriamo una buona volta che cosa siamo capaci ma per così dire con facoltà di revoca e al massimo per un anno se ne poteva avere l'idea che si voleva tanto non era per l'eternità e andava al cuore non si sapeva come l'amor di patria diventava una cosa viva così avvenne che il conte L'Einsdorf riportò un successo inaspettato anche lui in principio aveva concepito la sua idea come una similitudine poetica ma in più gli era venuta in mente una serie di nomi e la sua indole morale aspirava ad uscire dall'inconsistenza aveva la netta convinzione che bisogna guidare la fantasia del popolo ossia del pubblico come disse a un giornalista che gli era devoto verso una meta chiara ragionevole sana e collimante con le autentiche mete dell'umanità e della patria questo giornalista spronato dal successo del collega prese subito nota e avendo sul predecessore il vantaggio dell'informazione diretta era perfettamente nella tecnica del suo mestiere che egli proclamasse in caratteri cubitali notizie da fonti autorevoli e questo appunto il conte Leinsdorf si aspettava da lui perché sua signoria ci teneva a non essere un ideologo ma un seguace sperimentato della realpolitik e voleva che fosse tirata una sottile linea di demarcazione fra l'anno austriaco di una sagace mente giornalistica e quello dei prudenti circoli responsabili a tale scopo adottò la tecnica bismarckiana che di solito non amava prendere a modello di mettere le vere intenzioni in bocca ai giornalisti per poterle riconoscere oppure negare secondo le esigenze del momento ma mentre agiva con tanta cautela non aveva pensato una cosa infatti non esclusivamente un uomo come lui vedeva la verità la cosa di cui abbiamo bisogno ma si potrebbe addirittura definire come ancora detto avrebbe però dovuto essere in armonia con i veri scopi dell'esistenza essi lo accolgono come i santi a cui il signore invia un'apparizione in conto e l'einsdorf aveva stabilito che la sua opera doveva essere una poderosa manifestazione sorta in seno al pubblico perciò aveva pensato all'università al clero ad alcuni nomi che non mancano mai nelle cronache dei trattenimenti benefici e persino alla stampa contava sui partiti patriottici sulla sanità morale della borghesia che espone le bandiere nel giorno genetriaco dell'imperatore e sull'aiuto dell'alta finanza e anche sulla politica perché sperava segretamente che il suo grandioso movimento l'avrebbe resa inutile riportandola al comune denominatore suolo paterno che più tardi egli progettava di dividere ancora per suolo per ottenere come unico risultato il paterno monarca ma sua signoria non aveva pensato a tutto e fu sorpreso dal diffuso bisogno di riformare il mondo che cova nel calore di una grande occasione come uova di insetti in un incendio questo sua signoria non l'aveva previsto era aspettato molto patriottismo ma non era preparato a invenzioni teorie ordinamenti mondiali e gente che invocava da lui la liberazione dalle carceri spirituali costoro assediavano il suo palazzo esaltavano l'azione parallela come un'occasione di far trionfare infine la verità e il conte Leinsdorf non sapeva che cosa fare di loro consapevole della sua posizione sociale non poteva certo sedersi a un tavolo con tutta quella gente ma come spirito pieno di attiva moralità non poteva nemmeno mandarli a quel paese e poiché la sua cultura era politica e filosofica ma per nulla scientifica né tecnica non riusciva proprio ad accappizzare se in quelle proposte c'era qualcosa di sensato oppure no così stando le cose egli desiderava sempre più intensamente una collaborazione di Ulrich da tutti decantato come l'uomo che faceva al caso suo già che il suo segretario ed altronde qualunque comune segretario non poteva essere pari ad un simile ufficio una volta dopo essere andato in collera col suo impiegato arrivò persino a pregare Dio e il giorno dopo se ne vergognò moltissimo perché Ulrich si risolvesse finalmente a venire da lui e poiché questo non accadde sua signoria si mise sistematicamente a cercarlo fece guardare nella guida ma il nome di Ulrich non c'era allora si recò dalla sua amica Diotima che sapeva sempre dove rivolgersi e infatti quella donna ammirevole aveva già visto Ulrich ma si era dimenticata di farsi dare l'indirizzo o così finse in realtà voleva approfittare dell'occasione per proporre a sua signoria come segretario della grande azione un nuovo e molto migliore individuo ma il conte Leinsdorf era agitatissimo e dichiarò recisamente che si era già abituato a Ulrich e che un prussiano non gli serviva neanche un prussiano riformato e che non voleva saperne di altre complicazioni trassicolò perché l'amica se ne dimostrava sorpresa e questo gli ispirò un'idea geniale dichiarò che andava dritto dal suo amico il capo della polizia il quale doveva ben essere capace di scovare l'indirizzo di qualsiasi cittadino Clarisse e i suoi demoni quando giunse il biglietto di Ulrich Walter e Clarisse stavano di nuovo suonando il piano con tanta violenza che i mobili d'arte ballavano sulle gambe sottili e le stampe di Dante Gabriele Rossetti tremavano alle pareti il vecchio fattorino che aveva trovato tutte le porte aperte fu investito da lampi e fulmini quando penetrò nel salotto e il sacro frastuono in mezzo al quale era capitato lo schiaffò riverente contro il muro fu Clarisse che scaricata in due accordi potenti l'incalzante eccitazione musicale lo liberò mentre ella leggeva la lettera effusione interrotta zampillò ancora dalle mani di Walter una melodia corse saltellando come una cicogna poi allargò le ali Clarisse lo sorvegliava con diffidenza mentre decifrava lo scritto di Ulrich quando la moglie gli annunciò la visita dell'amico Walter disse peccato ella riprese il suo posto vicino a lui sul piccolo sgabello girevole e un sorriso che per qualche ragione a Walter parve crudele le increspò le labbra dandole un'espressione sensuale era l'attimo in cui i suonatori trattengono il sangue per poterlo lanciare allo stesso ritmo e gli assali degli occhi sporgono dalle teste come quattro lunghi steli mentre essi col sedere si aggrappano convulsa il seggiolino che oscilla eternamente in cima al lungo collo della vite di legno un istante dopo Clarice e Walter ripartirono come due locomotive lanciate fianco a fianco il pezzo che suonavano volava loro incontro come rotaie lampeggianti spariva nella macchina rombante e restava alle loro spalle paesaggio sonoro meravigliosamente presente durante la corsa vertiginosa i sensi delle due creature erano compressi in una cosa sola udito sangue muscoli travolti senza volontà da un uguale vicenda pareti di suoni luminose sinuose costringevano i loro corpi in uno stesso binario li incurvavano insieme allargavano e stringevano il petto in un unico respiro simultanei fino alla frazione di secondo serenità e mestizia collera e paura amore e odio desiderio e stanchezza percorrevano walter e clarisse era un'unione come quella di un grande spavento quando centinaia di uomini che poco innanzi erano diversi in tutto compiono gli stessi remiganti movimenti di fuga e mettono le stesse grida insensate spalancano nello stesso modo gli occhi e la bocca vengono trascinati avanti o indietro tutti insieme da una forza senza scopo urlano guizzano sagrovigliano e tremano ma non era la forza sorda e strapotente che è nella vita dove un fenomeno non accade tanto facilmente in cambio però al niente e inesorabilmente ogni personalità l'ira l'amore la gioia la giocondità e la tristezza che clarisse e walter gustavano a volo non erano sentimenti pieni ma solo poco più che il ricettacolo corporeo eccitato fino al delirio di quei sentimenti sedevano rigidi e rapiti sui loro sgabelli erano con nulla e di nulla e per nulla o ciascun con di e per qualcosa di diverso adirati innamorati e mesti pensavano un pensiero differente e intendevano ciascuno il suo l'imperativo della musica li univa in altissima passione e nello stesso tempo li lasciava in una specie d'assenza come nel sonno forzato dall'ipnosi ognuno dei due sentiva a modo suo walter era felice ed eccitato come la maggior parte degli amatori di musica credeva che quel tempestoso ondeggiare e quei moti intimi simili a sentimenti cioè il fondo corporeo dell'anima smosso e intorbidato fossero il semplice linguaggio dell'eterno che unisce tutti gli uomini era felice di stringere a sé Clarisse col braccio gagliardo del sentimento primigenio quel giorno era tornato a casa dall'ufficio più presto del solito aveva passato la giornata a catalogare opere d'arte che portavano ancora l'impronta di grandi epoche intatte ed emanavano una misteriosa forza di volontà Clarisse l'aveva accolto con grazia e adesso era strettamente legata a lui nel prodigioso mondo della musica tutto quel giorno portava in sé un'arcana fortuna una silenziosa marcia trionfale come quando gli dai sono in cammino forse è questo il giorno pensava Walter non voleva ricondurre a sé Clarisse con la violenza in lei stessa doveva nascere la resipiscenza e piegarla dolcemente verso di lui il pianoforte martellava lucenti teste di note in una parte d'aria sebbene il procedimento fosse all'origine assolutamente reale i muri della stanza scomparvero e al loro posto fluirono i panneggi d'oro della musica lo spazio arcano in cui l'io e il mondo la percezione e la sensazione il dentro e il fuori si confondono turbinosamente l'uno con l'altro mentre esso stesso è fatto esclusivamente di sensibilità precisione esattezza una vera gerarchia della gloria di ordinati particolari a quei particolari sensuali erano legati i fili del sentimento tessuti dal vapore ondeggiante delle anime quel vapore che si specchiava nella precisione delle pareti e appariva a se stesso chiaro e intellegibile come bozzoli di bacchi da seta anime dei due sposi penzolavano da quei fili e da quei raggi più si infittivano i viluppi e le irradiazioni e più Walter si sentiva beato e i suoi sogni prendevano talmente l'aspetto di un bimbo in fasce che gli incominciò a sbagliare le note e a sonare sdolcinato ma prima che ciò avvenisse e una scintilla di sentimentalismo triviale rompesse la nebbia dorata ristabilendo fra i due le correlazioni terrene i pensieri di Clarisse erano già di una specie diversa da quelli di lui come può accadere soltanto a due esseri lanciati a corsa pazza con gesti gemelli di estasi e disperazione fra le nebbie fluttuanti emergevano immagini si confondevano si sovrapponevano svanivano questo era il pensiero di Clarisse ella aveva un modo tutto suo di pensare sovente avevano in scena parecchi pensieri intrecciati a volte nessuno ma si sentivano pensieri come demoni ritti dietro le quinte e la successione temporale degli avvenimenti che dà alle altre creature umane un solido sostegno in Clarisse diventava un velo che ora infitiva le pieghe ora si dissolveva in un soffio appena visibile tre persone stavano questa volta intorno a Clarisse Walt Ulrich e Mosbrugger l'assassino di Mosbrugger Ulrich le aveva parlato a lungo ripugnanza e attrazione la erretivano in una strana magia Clarisse mordicchiava la radice dell'amore essa è contradditoria ha baci e morsi sguardi che si agganciano e occhi che all'ultimo minuto si volgono via annoiati il buon accordo trascina l'odio e la si chiedeva la vita decorosa anela alla volgarità il pacifico ha bisogno del brutale l'ordine esige di essere sconvolto era questo e non era quel che Mosbrugger le suggeriva nel rombo della musica un incendio universale era soffiato intorno a lei un incendio non ancora scoppiato che consumava nascostamente le travature ma era come in una similitudine dove i due termini sono gli stessi eppure sono anche profondamente diversi e dalla differenza dell'uguaglianza come dall'uguaglianza della differenza si levano due colonne di fumo col profumo boscoso di mele arrostite e di rami da bete gettati nel fuoco non bisognerebbe mai smettere di sonare disse Clarice fra sé e voltando in fretta il quaderno di musica ricominciò il pezzo da capo Walter sorrisse imbarazzato e la seguì che cosa fa precisamente Urlich con la sua matematica e la domandò Walter alzò le spalle seguitando a sonare come se guidasse un'auto da corsa bisognerebbe sonare e sonare sempre eternamente pensò Clarice se si potesse andare avanti senza interrompersi fino al termine della vita che cosa sarebbe allora Mosbrugger un mostro un pazzo un uccello nero del cielo non lo sapeva e non sapeva niente del resto un giorno avrebbe potuto dire che giorno si era destata dal sonno dell'infanzia e aveva trovato lì belle fatta la convinzione che lei era chiamata a compiere qualcosa a recitare una parte speciale forse sarebbe stata addirittura investita di una grande missione allora non sapeva ancora nulla del mondo e non credeva a ciò che gliene raccontavano i genitori il fratello maggiore erano parole sonanti tutto bello e buono ma lei non poteva far suo ciò che dicevano non poteva assolutamente come una sostanza chimica non ne può assorbire un'altra che non le si addice poi comparve Walter e quello fu il giorno da allora in poi tutto le si addice disse Walter portava i baffi a spazzola diceva signorina all'improvviso il mondo non era più una superficie deserta rotta irregolare ma un cerchio di luce Walter n'era un centro lei un altro centro due centri che coincidevano terra case foglie cadute e non spazzate via tormentose linee aeree e la ricordava come uno dei più affliggenti episodi della sua infanzia il giorno in cui era stata col padre in un luogo panoramico e lui il pittore se n'era lungamente beato mentre lei guardare il mondo lungo quelle interminabili linee aeree faceva male come se dovesse passare il dito sullo spigolo di un righello di queste cose di queste cose era fatta prima la vita e ora a un tratto tutto diventava suo come carne della sua carne ormai era certo che avrebbe compiuto opere titaniche quali non avrebbe ancora saputo dire ma intanto era soprattutto la musica che le dava quelle sensazioni e a quel tempo sperava che Walter sarebbe stato un genio ancora più grande di Nietzsche per non parlare di Ulrich che era comparso più tardi e le aveva soltanto donato di Nietzsche le opere complete da allora era stato un continuo progresso indicibilmente veloce come suonava male il pianoforte una volta come capiva poco di musica e ora suonava meglio di Walter e quanti libri aveva letto di dove erano venuti se li vedeva davanti come uccelli neri che svolazzavano intorno a una fanciullina ferma tra la neve ma dopo un po' vede una parete nera con macchie bianche nero era tutto ciò che non conosceva e sebbene il bianco si andasse allargando in isole più o meno grandi il nero continuava a restare immenso come prima e diffondeva paura ed inquietudine che fosse il diavolo e la pensò forse il diavolo è diventato Mosbrugger fra le macchie bianche e l'annotostre di sentieri grigi così nella sua vita ella era passata di cosa in cosa erano avvenimenti arrivi partenze violente discussioni conflitti con i genitori il matrimonio la casa lotte inaudite con Walter gli stretti sentieri grigi serpeggiavano serpi pensò Clarice lacci quegli avvenimenti la vinghiavano la tenevano ferma le impedivano di giungere dove voleva erano viscidi e la obbligavano d'improvviso a mirare a un punto cui lei non tendeva serpi lacci viscidume così scorre la vita e come la vita presero a scorrere i suoi pensieri intinse le punte delle dita nel torrente della musica nel letto del torrente cadevano le serpie e i lacci sapriva come una baia tranquilla il rifugio della prigione dove Mosbrugger era tenuto nascosto i pensieri di Clarice entrarono con un brivido nella sua cella bisogna far musica fino alla fine e la ripeteva fra sé per darsi coraggio ma le tremava il cuore quando il palpito si calmò tutta la cella fu piena di lei del suo io era un sentimento lenitivo come un balsamo su una ferita ma quando lei volle afferrarlo per sempre esso si lacerò e si disperse come una favola o un sogno Mosbrugger sedeva leggendosi il capo e lei sciolse i suoi ceppi mentre ella muoveva le dita forza coraggio virtù bontà bellezza e ricchezza entrarono nella cella come un vento evocato dalle sue dita che giunge da prati diversi non importa sapere perché posso far questo intuiva Clarice importa soltanto che io lo faccia gli pose le mani una parte del proprio corpo sugli occhi e quando le staccò Mosbrugger era diventato un bellissimo giovane e lei gli stava accanto bellissima donna dal corpo morbido e dolce come un vino meridionale e niente affatto restio come era di solito il corpo della piccola Clarice l'aspetto della nostra innocenza e la riconobbe in uno strato profondo e pensante della sua coscienza ma perché Walter non era così e la ricordò salendo dalle profondità del sogno musicale come era ancora bambina a 15 anni quando già amava Walter e voleva salvarlo col coraggio la forza e la bontà da tutti i pericoli che minacciavano il suo genio e che brezza quando Walter scorgeva dappertutto quei gravi pericoli spirituali si chiese se tutto ciò era stato soltanto puerile il matrimonio l'aveva irradiato di una luce molesta dalle nozze per ciò che concerneva l'amore era nata improvvisamente una grande perplessità certo anche gli ultimi tempi erano stati meravigliosi forse più ricchi di contenuto più pieni di grandi cose che i precedenti ma l'incendio gigantesco divampante fino al cielo era scaduto a una fiammella di focolare che non vuole ardere bene Clarice non era sicura che le sue lotte con Walter fossero ancora grandi e la vita scorreva come quella musica che fuiva via sotto le dita fra un attimo sarebbe finita un'angoscia senza scampo soverchiava poco a poco Clarice e in quel momento si accorse che le note di Walter divenivano incerte i suoi sentimenti cadevano sulla tastiera schioccando come grosse gocce di pioggia e la indovinò subito a che cosa pensava il bambino sapeva che egli la voleva legare a sé con un figlio era la loro lite di tutti i giorni e la musica non si fermava la musica non conosceva di nieghi come una rete che lei non aveva visto gettare e che veniva rapidissimamente serrata bruscamente Clarice saltò in piedi a metà di una battuta e sbatté con tal forza il coperchio che Walter fece appena in tempo a salvare le dita oh come faceva male ancora spaventato egli capì tutto era l'avvenuta di Ulrich che al solo annuncio turbava Clarice fino a quel punto egli le enuoceva sommovendo in là brutalmente quello che Walter stesso non osava toccare la nefasta genialità di Clarice la caverna segreta dove qualcosa di fatale torriceva le catene che un giorno avrebbero potuto spezzarsi non si mosse e la guardò sconcertato e Clarice non diede spiegazioni stava lì e respirava fannosamente non amava Ulrich no affatto affermò dopo che Walter ebbe parlato se l'avesse amato l'avrebbe detto subito ma si sentiva accesa da lui come una lampada quando lui era vicino tornava a sentirsi più luminosa e preziosa Walter invece voleva sempre soltanto chiudere gli scuri e quello che lei sentiva non riguardava nessuno né Ulrich né Walter ma Walter fra la stizza e il furore che espilavano dalle sue parole credette di sentir l'aroma di un granello stupefacente e mortale che furore non era ormai era notte la stanza era nera il piano era nero le ombre di due esseri che s'amavano erano nere gli occhi di Clarice splendevano nel buio accesi come lumi e nella bocca di Walter contorta dal dolore lo smalto di un dente brillò come avorio anche se fuori nel mondo si svolgevano importantissime azioni di stato e nonostante i fastidi e le contrarietà della vita sembrava che quello fosse uno dei momenti per cui Dio ha creato la terra un uomo senza qualità è fatto di qualità senza l'uomo dopo che il direttore Fischel se ne fu andato in gran fretta egli si immerse di nuovo nel problema della sua giovinezza perché il mondo favorisce in modo così inquietante tutte le manifestazioni non intrinseche e nel senso più alto non autentiche si fa sempre un passo avanti quando si dice una bugia pensò avrei dovuto dirgli anche questo Ulrich era un uomo passionale ma per passione non si deve qui intendere le singole passioni doveva esserci stato qualcosa che sempre e sempre tornava a spingerlo verso di esse e questo forse era passione ma anche in stato di eccitazione e di azioni eccitate il suo contegno era allo stesso tempo appassionato e indifferente aveva fatto all'incirca tutte le esperienze che si possono fare e sentiva che anche adesso avrebbe potuto precipitarsi a ogni momento in qualche cosa di cui magari non gli importava nulla purché stimolasse il suo bisogno d'attività con poca esagerazione poteva quindi dire che nella sua vita le cose si erano svolte come se fossero piuttosto legate l'una all'altra che a lui ad A era sempre seguito B che si trattasse di battagli oppure d'amore e così si era anche dovuto convincere che le qualità in tal modo acquistate più che con lui erano connesse fra loro anzi ciascuna di esse se esaminava bene a se stesso non aveva più strettamente da fare con lui che con altri individui che a loro volta le possedessero senza dubbio però le qualità determinano l'uomo e lo compongono anche se egli non è identico ad esse e quindi talvolta si appare stranei a se stessi tanto in stato di riposo quanto in fase di attività se Ulrich avesse dovuto dare di sé una definizione si sarebbe trovato in imbarazzo perché come molti altri non aveva mai studiato se stesso che in rapporto a un problema e alla sua soluzione la coscienza di sé non aveva sofferto danno e nemmeno era viziata e frivola era ignoto quel bisogno di ripassare e lubrificare il motore che è chiamato introspezione era un uomo forte non lo sapeva forse su quel punto era fatalmente in errore ma certo era sempre stato un uomo che fidava nella propria forza anche adesso non dubitava che la differenza fra l'attivo delle proprie esperienze e qualità e il loro rimanere strane a lui fosse soltanto una diversità d'atteggiamento in certo senso una volizione o la scelta di vivere a un punto determinato posto fra la generalità e la personalità in parole semplici si può prendere di fronte alle cose che ci capitano o che noi facciamo un atteggiamento più generale o più personale di una percossa si può risentire oltre al dolore anche l'offesa e allora diventa insopportabile ma si può anche accettare sportivamente come un ostacolo che non ci deve né intimidire né mandare in bestia e allora nove volte su dieci non ce ne accorgeremo neanche in questo secondo caso il colpo ricevuto viene semplicemente incasellato in un complesso più vasto quello cioè del combattimento e la sua essenza è chiaramente subordinata al compito che deve svolgere e questo fenomeno che un'esperienza non riceve il suo significato anzi il suo contenuto se non dalla posizione in una catena di azioni conseguenti si osserva in ogni uomo che non la consideri una vicenda puramente personale bensì una sfida alla sua forza spirituale anche egli allora sentirà più debolmente le proprie azioni ma cosa strana quello che nel pugilato si considera forza superiore dello spirito quando sorge in uomini alieni dalla box per tendenza a una spirituale condotta di vita diventa freddezza e mancanza di sentimento c'è tutto un assortimento di distinzioni per applicare ed esigere secondo i casi un atteggiamento personale oppure generale un assassino che procede obiettivamente è accusato di brutalità aggravata un professore che nelle braccia della sposa continua a inseguire i suoi calcoli è tracciato di gelida aridità un uomo politico che per ascendere calpesta mucchi di avversari annientati viene proclamato secondo il successo uno scellerato o un grand'uomo ma da soldati carnefici e chirurghi invece si esige l'irremovibile tenacia che negli altri è condannata non occorre soffermarsi più a lungo sulla morale di questi esempi per notare l'incertezza con la quale si stringe ogni volta il compromesso fra azione obiettivamente giusta e azione individualmente giusta questa incertezza serviva ad ampio sfondo al problema personale di Ulrich in altri tempi si poteva vivere da individuo con miglior coscienza che oggi i uomini erano come calamai di grano dio il fuoco la grandine la pestilenza e la guerra li scuotevano forse con più violenza che adesso ma tutti insieme a città a regioni come campo e quel tanto di movimento personale che restava in più a ogni singolo calamo era nettamente delimitato e se ne poteva assumere la responsabilità oggi invece la responsabilità ha il suo punto di gravità non più nell'uomo ma nella concatenazione delle cose non si è notato come le esperienze si siano rese indipendenti dall'uomo sono andate sul teatro nei libri nelle relazioni di scavi e di viaggi nelle comunità di fede e di religione che coltivano certe varietà di esperienze a spese delle altre come in un esperimento sociale e se per caso le esperienze non si trovano nel lavoro sono semplicemente sospese nell'aria chi può dire ormai oggigiorno che il suo sdegno è per davvero il suo sdegno se tanta gente gli toglie la parola di bocca e la sa più lunga di lui è sorto un mondo di qualità senza uomo di esperienze senza colui che le vive e si può quasi immaginare che nel caso limite l'uomo non potrà più vivere nessuna esperienza privata e il peso amico della responsabilità personale finirà per dissolversi in un sistema di formule e di possibili significati probabilmente la decomposizione del rapporto antropocentrico che per tanto tempo ha posto l'uomo come centro dell'universo ma è ribasso da secoli è giunta finalmente all'io perché l'idea che l'importante dell'esperienza è il viverla e dell'azione è il farla incomincia a sembrare un'ingenuità alla maggior parte degli uomini ci sono ancora persone che vivono molto personalmente dicono ieri siamo stati dal tale e dal tal'altro oppure oggi facciamo questo e quest'altro e ne sono contenti senza bisogno di altro significato e contenuto amano tutto ciò che toccano con le dita e sono tanto esclusivamente persone private quanto è possibile esserlo appena da fare con loro il mondo diventa un mondo privato e brilla come un arcobaleno forse sono molto felici ma quella specie di gente appare già assurda di solito a tutti gli altri sebbene non si capisca ancora bene il perché e a un tratto davanti a queste perplessità Ulrich dovette confessare sorridendo a se stesso che era nonostante tutto un carattere pur senza averne uno un uomo con tutte le qualità ma gli sono indifferenti un principe dello spirito è arrestato e l'azione parallela acquista il suo segretario onorario non è difficile descrivere nei suoi tratti fondamentali il 32enne Ulrich quantunque lui di sé sappia soltanto che è equidistante da tutte le qualità e che tutte sue o non sue gli sono stranamente indifferenti alla mobilità morale che presuppone semplicemente una gran varietà di tendenze si accompagna in lui una certa aggressività egli ha un intelletto virile non è tenero per gli altri e si mette di rado nei loro panni salvo che li voglia studiare di questa e quest'altra causa e vogliano operare nello spirito per i suoi scopi non rispetta i diritti se non rispetta colui che li possiede e ciò avviene di rado col tempo infatti si è sviluppata in lui una certa tendenza alla negazione una duttile dialettica del sentimento che lo induce facilmente a scoprire una magagna in cose da tutti approvate e inversamente a difendere cose proibite e a rifiutare i doveri con un'avversione che nasce dalla volontà di crearsi i propri doveri da sé nonostante questa volontà egli con certe eccezioni che si concede abbandona semplicemente la propria condotta morale al decoro cavalleresco che nella società borghese guida più o meno tutti gli uomini finché vivono in condizioni regolari e ordinate e in tal modo con la superbia la mancanza di riguardo e la non curanza di un uomo che ha una vocazione conduce la vita di un altro uomo che delle sue inclinazioni e capacità fa un uso più o meno comune utile e sociale era avvezzo a considerarsi per impulso naturale e senza vanità lo strumento per uno scopo di una certa importanza che sperava di apprendere in tempo e che ora in quell'anno già iniziato di inquieta ricerca dopo aver considerato gli sbandamenti senza timone della sua vita aveva di nuovo l'impressione di essere sulla buona strada e non si dava gran pena per il suo progetto non è facile riconoscere in una natura si fatta la passione propulsiva i gusti e le circostanze le han dato molteplici forme il suo destino non è stato ancora messo a nudo da una contropressione veramente dura essenziale però è che per decidersi ne manca ancora qualcosa che essa ignora Ulrich è un uomo che qualcosa costringe a vivere contro se stesso sebbene in apparenza egli si lascia andare libero da costrizioni il paragone tra il mondo e un laboratorio aveva ridestato in lui una vecchia immagine come un vasto locale di esperimenti dove si provano i sistemi migliori per essere uomo e se ne inventano di nuovi egli anninnanzi si era sovente raffigurato la vita quale doveva piacergli che il laboratorio lavorasse un po' a casaccio e che mancassero i direttori e i teorici quella era un'altra faccenda si poteva dire che lui stesso aveva voluto diventare qualcosa come un principe e signore dello spirito e chi non lo vuole è così naturale che lo spirito sia considerato la cosa suprema e dominante soprattutto il resto lo si insegna a scuola chi più si adorna di spirito se ne abbellisce lo spirito combinato con questo e con quello è diffuso come null'altro al mondo lo spirito della fedeltà lo spirito dell'amore uno spirito virile uno spirito illuminato il più grande spirito dei giorni nostri dobbiamo tener alto lo spirito di questa e di quest'altra causa e vogliamo operare nello spirito del nostro movimento come tutto ciò suona convincente e inoffensivo fino agli infimi gradini tutto il resto il crimine quotidiano o la solerte avidità di guadagno appaiono al confronto cose inconfessate la sporcizia di cui dio si netta le unghie ma quando lo spirito sta lì solo un sostantivo nudo spoglio come un fantasma al quale si vorrebbe prestare un lenzuolo che accade allora sia un bel leggere i poeti studiare i filosofi comprar quadri e ragionare per intere nottate è spirito quello che si acquista ammettiamo che lo si acquisti ma lo si possiede poi questo spirito è così saldamente legato alla forma casuale sotto cui si presenta esso passa attraverso l'uomo che vorrebbe assorbirlo e lascia dietro di sé solo un piccolo turbamento che cosa ce ne facciamo di tutto questo spirito lo si produce continuamente su montagne di carta di pietra di tela in misura veramente astronomica altrettanto continuamente lo si gusta che assorbe con gigantesco consumo di energia nervosa e poi dove va a finire svanisce come una chimera si scompone in molecole si sottrae alla legge terrena della conservazione fra le particelle di polvere che scendono dentro di noi e lentamente si posano e tutto quel dispendio non c'è proporzione dove è andato dove si trova che cosa è forse se si venisse a sapere qualcosa di più si farebbe intorno a questa parola spirito un silenzio angoscioso se l'ha fatto sera case quasi sgusciate dallo spazio asfalto rotaie formavano la conchiglia della terra sempre più fredda la conchiglia madre piena di movimento umano infantile iroso giocondo dove ogni gocciolone principia da gocciolina che spruzza e schizza comincia con una piccola esplosione viene raccolto e rinfrescato dalle pareti diventa più quieto più immobile si attacca teneramente al guscio della conchiglia madre e infine si consolida in un duro granello perché non ho fatto il pellegrino pensò Ulrich improvvisamente vedeva davanti a sé una vita pura senza compromessi fresca e pungente come aria limpida chi non vuol dire di sì alla vita dovrebbe almeno pronunziare il no dei santi e tuttavia era impossibile pensarci sul serio e neanche poteva fare l'avventuriero benché sia questa una professione che trasforma la vita in una specie di eterno fidanzamento ed egli ne sentisse la voglia nelle membra come nell'animo non avrebbe potuto diventare poeta né uno dei delusi che credono soltanto al potere e al denaro sebbene avesse disposizione a tutte queste cose dimenticò la sua età immaginò di avere vent'anni tuttavia era già intimamente deciso che non avrebbe preso nessuna di quelle strade tutte avevano qualcosa che lo attirava ma c'era una forza che lo tratteneva perché viveva così nell'oscurità e nell'irresolutezza senza dubbio egli si diceva quel che lo confinava in una forma d'esistenza segregata e indefinita altro non era che l'impulso ad associare e dissociare impulso che con una parola che non si ama incontrare da sola viene chiamato spirito e Ulrich a un tratto senza sapere perché si sentì malinconico e pensò semplicemente io non amo me stesso nel centro del corpo raggelato e impietrito della città sentiva battere il proprio cuore c'era dentro di lui qualcosa che non aveva mai voluto sostare in nessun luogo era avanzato a tastoni lungo le pareti del mondo pensando che c'erano milioni di altre pareti quella ridicola goccia dell'io che si raffredda pian piano che non vuol cedere al suo fuoco il minuscolo nucleo rovente lo spirito ha sperimentato che la bellezza rende buoni cattivi stupidi o affascinanti esso seziona una pecora e un penitente e trova in entrambi sottomissione e pazienza esamina una sostanza e scopre che in grandi quantità è un veleno in piccole un eccitante sa che la mucosa delle labbra è affine a quella dell'intestino ma sa pure che l'umiltà di quelle labbra è affine all'umiltà di tutto ciò che è santo lo spirito disfa scompiglia e ristabilisce un nuovo rapporto il bene e il male il sopra e il sotto non sono per lui concetti scetticamente relativi ma membri di una funzione valori che dipendono dalla concatenazione in cui si trovano egli ha imparato da secoli che i vizi possono diventare virtù e li virtù vizi e in fondo giudica che se nel corso di una vita non si riesce a fare di un delinquente un uomo utile ciò è da imputarsi unicamente a inettitudine a incapacità egli non riconosce nulla di lecito o di illecito perché tutto può avere una proprietà che lo immetta un giorno in una nuova grande correlazione segretamente odia a morte tutto ciò che si dall'aria ad essere stabilito per sempre i grandi ideali le leggi e la loro piccola impronta pietrificata il carattere pacifico non considera ferma nessuna cosa nessun io nessun ordine poiché le nostre nozioni possono mutare ogni giorno non creda ai legami e tutto possiede il valore che ha soltanto fino al prossimo atto della creazione come un volto al quale si parla mentre cambia ogni parola così lo spirito è il grande fabbricante di alternative di secondo i casi ma lui stesso non si lascia mai afferrare e quasi si potrebbe credere che solo suo effetto sia la distruzione ogni progresso è un guadagno nel particolare e uno smembramento dell'insieme c'è un aumento di potenza che sbocca in un progressivo aumento di impotenza e non lo si può negare urich pensò a quell'immenso corpo di fatti e di scoperte crescente quasi ora per ora dal quale lo spirito deve oggi puntare fuori lo sguardo se vuol ben considerare un problema qualsiasi è un corpo che cresce in barba alla volontà interiore e le prende la mano innumerevoli opinioni e interpretazioni pensieri ordinatori di tutti i tempi e di tutte le zone di tutte le forme di cervelli sani e malati desti e sognanti lo percorrono come migliaia di nervi sensitivi ma il nodo centrale dove dovrebbero convergere non esiste l'uomo sente vicino il pericolo di dover subire anche egli la sorte dei mastodonti preistorici che furono vittime della propria mole ma non si può fermare e a Durrich ritornò in mente una sua idea assai discutibile da lui conservata per molto tempo e ancora oggi non scartata del tutto che il mondo dovrebbe essere retto da un senato di uomini sapienti e progrediti è ovvio pensare che l'uomo il quale quando è malato si fa curare da medici specializzati e non da pecorai non ha nessuna ragione quando è sano di farsi guidare da chiacchieroni con la mentalità di pecorai come succede in tutti gli affari pubblici i giovani quindi che si preoccupano dei contenuti essenziali della vita da principio giudicano secondario tutto ciò che non è vero né buono né bello ad esempio un ufficio delle tasse oppure un dibattito al parlamento da quei tempi almeno i giovani erano così perché oggi grazie all'educazione politica ed economica pare che siano diversi ma anche allora quando si diventava più vecchi e ci si abituava a frequentare l'essicatoio dello spirito dove il mondo affumica il lardo dei suoi commerci e affari si imparava ad adattarsi alla realtà e lo stato definitivo di un uomo spiritualmente addestrato era all'incirca questo che egli non usciva più dal suo campo speciale e si persuadeva per il resto della sua vita che tutto quanto avrebbe forse dovuto essere diverso ma che era inutile star lì a rimuginarci sopra tale è pressapoco l'equilibrio interno degli uomini che forniscono un certo lavoro intellettuale e a un tratto Ulrich gli assunse in modo assai comico tutta la questione ponendosi la domanda se in fin dei conti dato che di intelligenza ce n'è certamente abbastanza il guaio non stia semplicemente in questo che l'intelligenza stessa non è intelligente fu lì per riderne era anche lui uno di quei rinunziatari ma l'ambizione delusa ancora viva lo trafisse come una spada in quel momento gli Ulrich erano due l'uno si guardò intorno sorridendo e disse dunque per una volta tanto ho voluto recitare una parte fra quinte come queste mi sono svegliato un giorno non fra le piume come nella culla di mamma ma con la dura convinzione di dover trasmettere un messaggio mi hanno suggerito parole ma io sentivo che non mi riguardavano punto come il panico davanti alle luci della ribalta le mie speranze e i propositi mi riempivano tutto ma impercettibilmente il palcoscenico si è girato e io ho fatto qualche passo avanti e forse sono già presso l'uscita fra poco sarò messo fuori e della mia parte tanto importante avrò detto magari i cavalli sono sellati al diavolo tutti quanti ma mentre l'uno con questi pensieri camminava sorridendo nella sera leggera l'altro serrava i pugni per dolore e per ira era il meno visibile e saccaniva a cercare una formula magica un appiglio che forse si poteva afferrare il vero spirito dell'ospedito il pezzo mancante piccolissimo forse che chiude il cerchio spezzato questo secondo Urrich non aveva parole per esprimersi le parole saltano come scimmie di albero in albero ma nel luogo oscuro dove si affondano le radici mancano le gentili intermediarie il suolo scorreva sotto i suoi piedi a malapena riusciva a tenere aperti gli occhi un sentimento può infuriare come una tempesta senza essere affatto un sentimento tempestoso quando si parla di una tempesta del sentimento si intende una di quelle che fanno gemere la scorza dell'uomo e ne torcono i rami fino a spezzarli ma questa era una tempesta dalla superficie perfettamente tranquilla quasi soltanto uno stato di conversione di inversione ogni lineamento restava immobile ma di dentro pareva che ogni atomo avesse mutato di posto i sensi di Ulrich erano desti però da ogni persona che incontrava l'occhio aveva una percezione diversa dal solito e così l'orecchio d'ogni suono non si poteva dire che fossero percezioni più acute e in fondo neppure più profonde né più morbide non più naturali o innaturali Ulrich non poteva dire nulla ma in quel momento pensava alla strana esperienza di spirito come a un amante dalla quale si è ingannati per tutta la vita senza perciò amarla di meno ed era il legame con tutto ciò che gli accadeva quando si ama infatti tutto è amore anche se è dolore o orrore il ramicello sull'albero e il vetro pallido della finestra nella luce crepuscolare diventano un'esperienza profondamente celata nell'intimo che quasi non si può descrivere con le parole le cose non sembrano fatte di legno e di pietra ma di un'immortalità grandiosa e delicatissima che nel momento in cui veniva in contatto con lui diventava profonda commozione morale durò quanto un sorriso e Ulrich stava pensando ormai voglio restare dove sono stato portato quando la sfortuna volle che quella tensione fosse spezzata da un ostacolo la cosa proveniva in verità da un mondo assai diverso da quello in cui Ulrich aveva poc'anzi veduto nell'albero e nella pietra la continuazione sensibile del proprio corpo perché un giornale proletario aveva lanciato come si sarebbe espresso il conte Leinsdorf un getto di saliva distruttiva sulla grande idea sostenendo che era soltanto un nuovo trucco sensazionale della classe dominante che faceva seguito all'ultimo delitto sessuale e un bravo operaio che aveva bevuto un poco ne era molto sdegnato l'operaio era passato accanto a due cittadini soddisfatti dell'andamento dei loro affari i quali sapendo che di conformismo si può sempre far sfoggio stavano esprimendo a voce abbastanza alta e il loro consenso all'azione patriottica di cui erano informati dai giornali ne torse un battibecco e poiché la vicinanza di un poliziotto incoraggiava i ben pensanti quanto irritava l'aggressore la lite prese un tono sempre più violento il poliziotto in principio li osservò con la coda dell'occhio poi di fronte e poi da vicino stette a guardare per un po' come un braccio del ferro macchinario statale che finisce in bottoni e altre parti metalliche ora il vivere in uno stato ben ordinato ha qualcosa di assolutamente lugubre non si può uscire in strada né bere un bicchiere d'acqua né prendere il tram senza toccare le leve di un gigantesco apparato di leggi e rapporti metterla in moto oppure affidar loro la pace della propria esistenza si conosce soltanto quella minima parte di esse che penetra profondamente nell'interno mentre dall'altro lato esse si perdono in un groviglio di cui nessuno al mondo ha mai scoperto il congegno perciò si nega che esistono come il cittadino nega che esista l'aria e dice che è vuoto ma forse proprio nel fatto che tutte le cose di cui si nega l'esistenza tutte le cose senza colore senza odore senza sapore senza peso e senza morale come l'acqua l'aria lo spazio il denaro o il passare del tempo sono in verità le più importanti sta forse una tal quale sinistra misteriosità della vita talvolta l'uomo è colto dal panico come in un sogno involontario travolto da una bufera si dibatte pazzamente come una bestia incappata nell'incomprensibile meccanismo di una rete un'impressione analoga produssero sull'operaio i bottoni del poliziotto e in quel momento lo strumento dello stato non sentendosi considerato col dovuto rispetto procedette all'arresto l'arresto non si svolse senza resistenza e ripetute manifestazioni di una mentalità sovversiva l'effetto prodotto lusingava l'ubriaco e una radicale avversione contro il suo simile rimasta in lui finora latente si scatenò in pieno incominciò una lotta accanita per la supremazia un elevato sentimento del proprio io contendeva con la sgradevole impressione di essere in un brutto frangente anche il mondo era poco saldo sotto i suoi piedi era come una nebbia che cambiava forma continuamente le case erano oblique come sradicate nel mezzo formicolavano poveri diavoli ridicoli ma fraterni io sono chiamato a mettere ordine fra loro si diceva l'ubriaco occasionale tutta la scena era bagnata di un chiarore incerto un pezzo di strada gli balenò incontro ma poi i muri girarono di nuovo gli occhi gli uscivano dalla testa come lunghi antenne mentre le piante dei piedi s'attaccavano al terreno dalla bocca già fluiva uno strano rigurgito parole che venivano fuori e non si sapeva come mai fossero entrate forse erano imprecazioni bestemmie era difficile a dirsi il fuori e il dentro si confondevano la collera non era una collera interna ma soltanto il guscio della collera e clattato fino al furore e la faccia di un poliziotto si avvicinò ad agio ad agio a un pugno chiuso finché essa si coperse di sangue ma anche il poliziotto intanto si era triplicato intorno agli agenti accorsi si era radunata gente l'ubriaco si era buttato a terra e non voleva lasciarsi arrestare allora Ulrich commise un'imprudenza aveva colto nell'assembramento la frase offesa a sua maestà e dichiarò che l'uomo in quello stato non era in grado di offender nessuno e che bisognava mandarlo a dormire aveva parlato senza pensarci ma gliene incolse male l'ubriaco si mise a gridare che tanto di Ulrich quanto di sua maestà e un agente attribuendo evidentemente la nuova violenza a quell'intervento invitò con malgarbo Ulrich a togliersi dai piedi allora Ulrich non considerava lo stato diversamente da un albergo dove si ha diritto ad essere serviti con cortesia e protestò contro il tono usato con lui il che portò inaspettatamente la polizia al convincimento che un ubriaco solo non bastava a giustificare la presenza di tre agenti così che si portarono via anche Ulrich la mano di un individuo in uniforme gli germì il braccio il suo braccio era molto più forte di quella stretta offensiva ma non poteva spezzarla se non voleva invischiarsi in una partita di box con il potere esecutivo armato così che alla fine non gli rimase altro che promettere di seguirli docilmente il corpo di guardia era nell'edificio di un commissariato di polizia e Ulrich per prima cosa guardando le pareti e il pavimento pensò ad una caserma la stessa lotta sorda fra sporcizia costantemente introdotta e grossolani sistemi di pulizia notò quindi il simbolo stabilito dell'autorità civile due scrivanie con balaustre alle quali mancavano alcune colonnine due cassoni piuttosto con panno strappato e bruciacchiato poggiati su piedi bassi e rotondi e verniciati ai tempi dell'imperatore ferdinando di una lacca giallo-bruna di cui si sfaldavano sul legno gli ultimi resti la terza cosa notevole era la sensazione di cui era piena la stanza che qui bisognava aspettare senza chiedere nusa il suo agente dopo aver esposto il motivo dell'arresto gli torreggiava a fianco come una colonna Ulrich tentò di dar subito qualche spiegazione ma il sergente il comandante di quella fortezza alzò un occhio dalle carte su cui stava già scrivendo all'ingresso del corteo esaminò Ulrich poi riabbassò l'occhio eseguitò a scrivere senza pronunciare parola Ulrich ebbe l'impressione dell'infinito poi il sergente spinse in là il foglio prese un registro in una scansia vi fece un'annotazione la cosparse di sabbia rimise a posto il registro ne prese un altro scrisse asciugò tirò fuori da un mucchio un altro incartamento e continuò lì sopra la propria attività ad Ulrich sembrò che si stesse svolgendo a una seconda eternità mentre le costellazioni ruotavano secondo le loro orbite ed egli non esisteva al mondo dall'ufficio una porta aperta metteva in un corridoio dove erano le camere di sicurezza la avevano subito portato il protetto di Ulrich e poiché di lui non si udiva più nulla la sbornia doveva fergli donato la benedizione del sonno ma si subodoravano altri sinistri procedimenti il corridoio delle guardine doveva avere un secondo ingresso Ulrich sentiva pesanti andirivieni porte che sbattevano voci soffocate e a un tratto durante la consegna di un nuovo venuto una di quelle voci si alzò e Ulrich la udì implorare disperata se avete appena un barlume di sentimento umano non dovete arrestarmi le parole naufragarono ed era stranamente inopportuno quasi ridicolo quell'invocare da un funzionario un sentimento umano nel momento che le funzioni sono puramente oggettive il sergente alzò per un attimo il capo senza abbandonare le sue scartoffie Ulrich sentì lo scalpiccio precipitoso di molti piedi i cui corpi trascinavano evidentemente in silenzio un altro corpo recalcitrante poi si sentì soltanto l'inciampare di due piedi come dopo un colpo infine una porta fu chiusa con violenza scattò un chiavistello l'uomo in uniforme alla scrivania aveva di nuovo chinato la testa e nell'aria c'era il silenzio di un punto messo come si deve a chiusura ad una frase ma Ulrich doveva essersi sbagliato nella presunzione di non esistere ancora per il cosmo poliziesco perché alla successiva alzata di capo il sergente guardò lui le ultime linee scritte rimasero umide e lucenti e non vennero asciugate e fu chiaro che il caso Ulrich era già da un certo tempo ufficialmente entrato in vita nome età professione abilitazione Ulrich fu minuziosamente interrogato di farvedessere negli ingrenaggi di una macchina che lo scomponesse in pezzi impersonali generali ancora prima che si parlasse della sua colpa o non colpa il suo nome le due parole più povere di immaginazione ma più ricche di sentimento in tutto il linguaggio umano qui non significava niente i suoi lavori che nel mondo scientifico un mondo reputato solido e serio gli avevano procurato onore in questo mondo qui contavano zero non una sola domanda gli fu rivolta in proposito la sua faccia importava soltanto per i connotati ebbe l'impressione di non aver mai pensato che i suoi occhi erano grigi uno dei quattro tipi d'occhi esistenti e ufficialmente permessi in milioni d'esemplari i capelli erano biondi la statura un metro e ottanta il viso ovale e segni particolari non ne aveva quantunque lui fosse di opinione diversa secondo lui era alto largo di spalle il torace arcato come una vela gonfia all'albero maestro e le articolazioni del suo corpo facevano scattare i muscoli come piccoli congegni d'acciaio quando andava in collera litigava o buona dea gli si stringeva contro invece era sottile delicato scuro e molle come una medusa fluttuante nell'acqua quando leggeva un libro che lo commuoveva o quando sfiorava un alito del grande amore vagabondo di cui non aveva mai saputo spiegarsi l'esistenza sulla terra si interessò quindi perfino in quelle circostanze al disincantamento statistico della sua persona e il sistema di misurazione e descrizione a lui applicato dagli organi di polizia lo esilarò come una lirica amorosa composta da satana la cosa più meravigliosa di tutto il procedimento era che la polizia non soltanto può spezzettare un uomo in modo che non ne rimane niente ma poi con quei pezzi insignificanti lo rimette insieme inconfondibilmente e da quelli lo riconosce per compiere un simile prodigio è solo necessario un imponderabile che la polizia chiama sospetto un ric capì di colpo che solo la più fredda prudenza poteva attrarlo dagli impicci in cui l'aveva messo la sua stoltezza continuarono a interrogarlo immaginò l'effetto che avrebbe fatto se alla relativa domanda avesse risposto la mia abitazione è quella di una persona che mi è stranea o all'altra domanda perché avesse fatto quel che aveva fatto avesse replicato che faceva sempre qualcosa di diverso da quel che veramente gli stava a cuore ma esternamente rispose con docilità dando il nome della via e il numero di casa e tentando di giustificare la propria condotta nel farciò l'autorità interna dello spirito era pietosamente impotente contro l'autorità esterna del sergente infine è di poter scorgere una tavola di salvezza mentre richiesto della sua condizione stava dicendo agitato sarà sentito pesare addosso uno sguardo che non sarebbe stato diverso se avesse risposto senza tetto ma quando si venne ai dati riguardanti la paternità ed egli dichiarò che il suo padre era senatore lo sguardo mutò espressione esso era ancora diffidente ma qualcosa diede subito a Ulrich una sensazione simile a quella di un uomo sbattuto dalle onde che sfiora d'improvviso con l'alluce il terreno solido seppe sfruttarlo con presenza di spirito subitamente desta attenuò tutto quello che aveva già ammesso contrappose alla testimonianza degli agenti giurati l'energica richiesta di essere interrogato dal commissario in persona e poiché non ottenne in risposta che un sorriso affermò con felice naturalezza non curante e pronto a ritirare subito l'affermazione se l'avessero ritorta contro di lui cercando di farlo cadere nel tranello di minute precisazioni che era amico del conte e segretario della grande azione patriottica annunciata dai giornali s'avvide subito di aver finalmente attirato su di sé quella più attenta considerazione che finora gli era stata negata e tenne saldo il vantaggio la conseguenza fu che il sergente lo guardò arrabbiato perché non voleva prendersi la responsabilità di mantenere il fermo né quella di toglierlo e poiché a quell'ora nessuno dei suoi superiori era in ufficio ebbe un'idea che attestava come il modesto sergente avesse imparato qualcosa dei sistemi coi quali gli impiegati di concetto solevano sbrigare le pratiche fastidiose prese un'aria di importanza e manifestò il grave dubbio che Ulrich non solo si fosse reso colpevole di offese alla forza pubblica e disturbo a un'azione di polizia ma ha tenuto conto soprattutto della posizione che affermava di occupare potesse anche essere sospettato di macchinazioni oscure probabilmente politiche e perciò doveva rassegnarsi a essere consegnato alla sezione politica della direzione di polizia così che pochi minuti dopo Ulrich partì nella notte in un'automobile che gli avevano concesso con un agente in borghese poco disposto alla conversazione avvicinandosi alla direzione di polizia l'arrestato vide le finestre del primo piano illuminate a festa perché il capo supremo aveva indetto una riunione importante a quella tarda ora sicché l'edificio non era una bicocca buia somigliava piuttosto a un ministero e Ulrich si sentì subito in un'aria più spirabile notò anche che l'impiegato del servizio notturno aveva subito capito l'assurdità dell'accusa che gli era stata mossa dall'irritato organo periferico tuttavia appariva estremamente fuori di proposito lasciar sfuggire alle reti della giustizia un uomo tanto sconsiderato da buttarci si dentro da sé anche l'impiegato della direzione portava in faccia un congegno di ferro e dichiarò al prisioniero che una simile imprudenza rendeva molto perplessi sull'opportunità di un rilascio Ulrich aveva già ripetuto due volte tutto ciò che aveva prodotto così buon effetto sul sergente ma con l'impiegato più alto non ebbe alcun successo e stava già per darsi vinto quando il viso del suo giudice si trasformò all'improvviso prendendo una strana espressione quasi di giubilo esaminò ancora una volta la denuncia si fece ripetere il nome di Ulrich si accertò del suo indirizzo lo pregò con cortesia di aspettare un momento e uscì dalla stanza passarono dieci minuti dopodiché egli ritornò come un uomo che si è ricordato di una cosa piacevole e pregò l'arrestato con cortesia ancora più accentuata di volerlo seguire sulla porta di una camera illuminata al piano superiore disse soltanto il signor direttore di polizia desidera parlarle personalmente e un istante dopo Ulrich si trovava davanti a un signore venuto dall'attiva sala delle sedute col mento adorno delle ben note fedine stava per spiegare la propria presenza come uno sbaglio della sezione e per protestare blandamente ma il direttore lo prevenne e lo salutò con le parole un equivoco caro dottore il signor commissario mi ha già spiegato tutto ciò nonostante dovremmo infliggerle una piccola punizione perché e così dicendo lo guardo malizioso se questo epitoto si può applicare a una massima autorità poliziesca come per lasciar sciogliere a lui l'indovinello ma Ulrich non l'indovinò affatto sua signoria suggerì il direttore la signoria il conte Leinsdorf soggiunse poi mi ha chiesto insistentemente di lei poche ore fa Ulrich capiva solo a mezzo il suo indirizzo non è nella guida dottore spiegò il funzionario con scherzoso l'improvero come se quello solo fosse il delitto di Ulrich Ulrich si inchinò sorridendo misuratamente presumo che domani lei debba far visita a sua signoria per una questione di grande interesse pubblico e non posso rischiare di impedirglielo trattenendola in arresto così il signore della macchina di ferro aveva concluso il suo piccolo scherzo possiamo supporre che il direttore in ogni caso avrebbe disapprovato l'arresto e che il commissario ricordando il nome di Ulrich del quale erano state chieste informazioni poche ore prima avesse descritto l'accaduto al direttore proprio così come il dottore lo doveva vedere e che nessuno quindi fosse intervenuto a mutare arbitrariamente il corso degli eventi sua signoria d'altronde non seppe mai come erano andate le cose il giorno dopo il delitto di lesa maestà Ulrich si sentì in dovere di andare ad ossequiarlo e in quell'occasione venne senz'altro nominato segretario d'onore della grande azione patriottica se il conte Leinsdorf avesse conosciuto il retroscena l'avrebbe attribuito di certo ad un intervento del cielo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti